in diretta dall'autodromo José Carlos Pache in Brasile gara 16 di 17 penultimo round della master league 2023 2024 buonasera amici di formula italian team a parte Raffaele Lelli per voi Roshi voce e regia di questa serata quindi come di consueto fatemi sapere soprattutto a livello audio se è tutto in ordine in particolar modo fortunatamente per voi ma in particolar modo per me non sono da solo ma c'è la voce e la direzione gara di Andrea Badolato buonasera Andre non so se fortunatamente o sfortunatamente per il ruolo di co commentatore comunque buonasera a tutti in una serata frizzantina direi esattamente gara 16 17 l'abbiamo già detto penultimo round ci si gioca la master league primi tre classificati intanto avevo già intravisto proprio uno dei protagonisti che terremo sotto d'occhio in questa serata j sport che al momento ha fatto registrare la migliore prestazione cronometrata facendo il record nel t2 ma grande equilibrio in pista visto che fabio il suo nome contenter al titolo ha registrato il record nel t1 e all'altro pilota in corsa proprio per il titolo di legge l'ho fatto nel t3 quindi già bello questo dato per ancora una volta continuare questo viaggio questo racconto dei tre piloti che si stanno sfidando per la conquista della master league 2023 2024 j sport per la riconferma una seconda eventuale conferma consecutiva che non accadeva dal 2017 quando nico fiore vinse su f1 2016 e su f1 2017 tra virgolette record nella quale è riuscito anche ambos ha lavorato all'epoca su di 69 f1 nelle stagioni 2011 2012 2013 andiamo in pista perché scende in questo momento drago lievitato attenzione perché i distacchi saranno veramente molto molto ravvicinati l'abbiamo visto ieri in pro league e guardate subito i primi quattro comunque protagonisti nella parte alta della classifica sono già in 74 millesimi 107 735 per j sport più staccato i 37 millesimi drago lievitato che prende spazio per il momento ferma i box fabio il surname a 54 millesimi 74 millesimi invece di legge piccolo solco di tre decimi per trovare manuel juve e tutta l'elevatissima carovana elevata a livello di prestazioni in pista carovana dei piloti che comunque si sono davvero ben difesi in questa master ci sono voluti i guizzi strategici come la scorsa settimana in catar di legge j sport più volte in particolar modo j sport per fare la differenza e già nel suo giro intanto luca bignone mentre che vi vado anche ad attivare le grafiche per ammirare anche vivere nel migliore dei modi la sessione qualificazione vi ricordo vi è il tracker lifetime sul nostro sito www.formuitalienteam.com per snocciolare nel migliore dei modi soprattutto in gara i passi dei piloti se ricevono degli avvertimenti eventuali contatti i distacchi tra il singolo pilota e dalla vetta che faranno sicuramente comodo jovi per il momento fa registrare la migliore prestazione nel t1 appena dietro posizionato alla williams di luca bigno che va adesso sul traguardo per un buon t2 da parte del pilota williams che però decide di abortire il suo giro e tornare box allora sul traguardo jovi per insidiare eventualmente le prime due file si ferma appena dietro di legge a 326 millesimi sembra esserci un tra virgolette pesante solco vista la pista che tende ancora di più ad avvicinare le prestazioni ma i primi quattro andro diciamo in precedenza sono stati protagonisti assoluti nella parte alta di questa classifica credo sia anche giusto e bello intrigante insomma che siano sia una roba tra di loro non ci sono tra virgolette fattori esterni potrebbe esserci il meteo eventuali safety car l'abbiamo visto in settimana che sono sempre protagoniste su questa pista le varianti sì assolutamente ce l'aspettiamo anche se devo dire che visto quanto sono stretti diciamo gli stacchi mi aspetto comunque qualche sorpresa lì dietro non dimentichiamoci anche il fatto che il j sport non è un pilota da qualifica quindi vederlo lì già secondo me lui ha un buon feeling col brasile se non ricordo male ora dovrei andare a vedere le sue statistiche ma da questo punto di vista vederlo lì sicuramente per quanto riguarda le sue aspirazioni è un buon segno anche se fabio è di legge penso che possono avere possono migliorare il loro tempo dj ricordo la sua prima vittoria in master league proprio qui in brasilia su un 2017 nell'annata ecco del dominio red bull con nico fiore e cri ferrari lui poi vinse quel gp segnato da un incredibile diluvio ci fu anche un tra virgolette passaggio di testimone con magic visto che quella era poi la sua annata di ritiro davide bertotti se non mi è errato perché lo confondevo anche davide f1 il cognome senare magic nel mentre fabio il surname va sul traguardo per registrare uno 735 aveva fatto lo stesso tempo di j sport la grafica gli ha dato la pole ma l'ha posizionato dietro j sport mette tutti d'accordo di legge che in 1 07 712 si prende la momentanea prima posizione qui si rischia un 97 non mi ricordo se 97 con schumacher demoni il chi era era demoni il se non ricordo male filner si il potenziale c'è vediamo si avvicina anche luca flaminio che un finale di stagione assolutamente increscendo in particolar modo in qualifica ad 88 millesimi dalla pole si è migliorato anche show me legend giovi dai 6 secondi che accusava è arrivato a 7 in settima posizione a 3 decimi poi guardate sono tutti quanti lì per dare onore anche comunque ai piloti che magari classifica la mano sono più lontani ma si sono davvero ben comportati quest'anno manuel juve è cresciuto tanto dopo la passata stagione da wildcard da metà no se non mi 2022 dovrebbe essere entrato manuel juve in pista anche stem l'unica mcclaren in pista per il parco piloti ecco sono tra virgolette tutti presenti 17 piloti in pista l'assenza di michael maia e naston martin consueta ritroviamo lopeschi e purtroppo mattia michelangeli speriamo nella prossima stagione più riesca ad essere più presente j sport in dato 1 0 7 570 a registrare il miglior crono torna i box stem no va su traguardo accorciando quanto di più possibile la pista per avvicinarsi alla pole 147 millesimi 6 millesimi dalla prima fila chiusa dal momento da j sport di legge apre la seconda fila stem in terza posizione accanto a fabio il surname in pista in pista poca azione per il momento perché stem sta daventando il flamillo torna ai box ai box c'è pronto anche baralex come andrei no dico sono tutti e box in questo momento prima della tempesta finale e allora aspettiamo che torni in pista anche baralex di nuovo wildcard questa sera dopo l'esordio la scorsa settimana in catar quindi piacere di trovare un'ennesima conferma anche da questi piloti che magari in catar non è andata benissimo l'impatto con la master non è mai facile si è davvero ben comportato matteo teoteo in ungheria da terzo pilota red bull e nonostante si è comportato così bene ha tra virgolette raccolto solo un sesto posto ma lo abbiamo raccontato in ogni modo questa è una master dai livelli soprattutto a centro gruppo estremamente ravvicinati e quindi un decimo ti fa passare da una possibile top 5 a forse anche fuori dalla zona punti al posto di michemail lo diciamo in precedenza di nuovo terzo pilota aston martin e lopes che poi in diciassettesima posizione al momento accreditato di un tempo davvero alto così come lorenzo damori che credo abbiano più saggiato la pista e magari in questi primi minuti ganu e lopes che non li attendiamo insomma nell'ultimo loro tentativo il primo a lanciarsi sarà la chicesco anche per lui stagione in particolar modo la parte centrale della stagione ricca di podi belle prestazioni anche uno di quei piloti frizzanti nelle battaglie non concede nulla ovviamente nel massimo rispetto al regolamento lo sfrutta in ogni modo e soprattutto a livello di spazi e tra virgolette brio diciamo nell'attacco è andato anche a sfidare si contendevano le primissime posizioni in classifica per la gioia di tappa quindi davvero tutto rispetto anche per questo pilota al suo esortio quest'anno con noi su formula italiana team che sarà anche il primo a lanciarsi per quest'ultimo tentativo aspettano davvero tanto invece j sport stem e fabio mentre già in pista di legge due giri di risparmio intanto per cesco jacopo sarà l'ultimo a diciamo con un tempo cronometrato forse il timer è leggermente buggato perché non ho aspettato davvero tanto 1.07.570 è già un limite assurdo a battere il muro dell'1.08 per carità l'allenamento settimanale c'è stato da parte di tutti quanti immagino per i livelli così elevati di questa master ma farlo al secondo colpo con la pista che non mi sembra le sue migliori delle condizioni visto che è stata tutta una sessione segnata dalle nuvole lo vedete anche dalle immagini e dal live timing vi spoilerò cose se vado su però fidatevi è stata tutta una sessione prettamente nuvolosa Max Basile 1997 purtroppo ci ricordava quel discorso di Erezza anche questa sera ci sarà dietro le quinte dopo la gara giovi che ragazzo simpatico però sono felice di vuol dire che ha seguito la pro e quindi va bene grazie seguiteci anche se giovi dovrebbe essere in pista quindi magari i primi minuti è poco presente in pista ci ha guardato col tablet invece che sistemarsi l'assetto il primo dei contender al titolo è Luigi Di Legge ad andare a far registrare un tempo nel primo settore cronometrato che si accende di fucsia almeno per quanto riguarda la grafica attacchiata a quote master lo vedete dalla minimap in basso a destra tutti quanti in pista per tentare l'attacco alla migliore prestazione Di Legge al T1 167 189 non è la sua migliore prestazione e guaglia il tempo di stem che gli è appena dietro di una posizione tuttavia è sotto il decimo nei confronti di J Sport il record nel T1 è stato fatto registrare da poco e da Shumi 167 75 un po' di traffico nel giro di stupo perfetta però la posizione di Gano per offrire la scia a Luigi Di Legge attenzione alla grande carta giocata in casa Ferrari starà sicuramente sorridendo in questo momento sia Di Legge che anche il buon Kaiser Matt Matteo Geraci ingegnere al muretto di Maranello Di Legge per attaccare la pole position in 1 7 7 3 no 7 no non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta per 83 millesimi 7 654 J Sport ha preso bandiera quindi non riuscirà a far a migliorare la sua prestazione Stem anche egli non ce l'ha fatta Shumi Legend va a prendersi la prima fila 1 0 7 650 attenzione ai tempi di Fabio il Sordeme che arriva con un tempo incredibile nel T2 l'unico insieme a J Sport ad andare sotto il muro dei 34 secondi Fabio il Sordeme per mettersi davanti a tutti 1 0 7 482 fenomenale il T2 anche meglio dice J Sport che era l'unico ad andare sotto il muro dei 3 è stato l'unico ad andare sotto il muro dei 34 secondi vediamo come si dovrebbe essere migliorato Flaminio seguiamo in questo modo Drago Levitato nulla da fare tempo annullato Manuel Juve Gano anche egli nel suo giro ha perso tante posizioni Stem alza il piede Manuel Juve prende bandiera Cesco aspettiamo Ametrano che però lampeggia quindi credo nulla di fatto dovrebbe essere un giro di rientro un po' di spazio allora a Cartista che segue proprio Ametrano no rientra anche egli forse c'è solo Gano anche lui il giro annullato allora dovrebbe essere finita qui non troppo pathos visto che non sono riusciti a tornare in pista per un ultimo tentativo J-Sport e Stem per l'attacco alla pole giro fenomenale ancora una volta da parte di Fabio che così come a Jed è riuscito in una pista che avvicina tanto le prestazioni a scavare un solto incredibile 33 986 nel T2 solo lui così come J-Sport in 33 987 quindi soltanto per un millesimo si sono rubati la migliore prestazione nel T2 sicuramente è il tratto dove più si va a fare la differenza anche magari in termini di setup se qualcuno ha scelto un setup più carico per le ali T1 tutto sommato l'abbiamo visto segnato dalla S2 Sena poi il lungo rettilineo per la reta opposta verso la subita 2 box T1 che ha visto il record da parte di Shumi Legend in serie C775 solo 6 millesimi più lento tra virgolette se si può parlare di lentezza considera che tra Lachicesco e Fabio Zornem ci sono 3 decimi e 5 e 1 e 1 e 1 e 10 quindi cioè è una cosa spaventosa sì primi 15 classificati in 737 millesimi poi fuori dal secondo piloti che credo a questo punto abbiano deciso di salvare quanti più treni di gomme soft possibili Lopeschi e Marco Gano rispettivamente a 1,5 ed 1,7 da una pole position mostruosa da parte di Fabio Zornem riuscire a scavare anche soltanto un decimino su un tracciato che tende ad avvicinare così tanto le prestazioni per la precisione 88 millesimi di vantaggio nei confronti di J-Sport con la quale quindi si va a conquistare questa incredibile pole position andiamo a dare uno sguardo per quelle Fabio in realtà non ha troppi numeri su Formula Italian Team lui ha corso con noi nella stagione 2021 in Pro League dove vinse il campionato e probabilmente vinse anche in questa pista vado a recuperare al volo il dato sebbene mi pare fosse anche lì l'ennesimo finale segnato un po' da discrete molteplici soprattutto Safety Car Fabio su questa pista si vinse partendo dalla quinta posizione e poi il 2022 si è assentato si è dedicato ad altro per poi tornare in questa annata che lo ha visto come uno dei contender fin da subito per il titolo di piloti anche i costruttori sembrava alla portata assolutamente dell'Alfa Romeo ma un Lele Salva incredibilmente rapido in qualifica non è mai riuscito a congratizzarsi in gara purtroppo fino poi all'abbandono del campionato spazio ad Alessio Fiorino che è in corsa ancora per il titolo piloti però i Sport League quindi sì la categoria maggiore per Forme Talent Team ma al 50% anche Fiorino rapidissimo in qualifica ma in gara questa seconda Alfa Romeo davvero non è riuscita mai a brillare o almeno confermare le prestazioni è anche il livello medio della Master come dicevi tu che comunque li costringe a essere sempre un po' al limite è complicato e allora attendiamo che i piloti vadano a fare le loro scelte a livello meteo travediamo sulla destra insomma rimane decisamente molto più nuvoloso rispetto a quanto abbiamo vissuto in settimana con la Sport e la Pro c'è l'olimpido sul tracciato di Inter Lagos che racchiude si snoda attorno a tre laghi per ricordarlo anche in questa serata buonasera buonasera Ricky Bizzo buonasera tutta la chat avremo bisogno di voi questa serata dei molti bevete soprattutto quindi accumulate fit point riscaldate anche se la gara si prevede caro Raffaele però super frizzante secondo me credo che ci saranno molti bevete da parte dei piloti eh volticine pure far drenare la pista diciamo spoiler palese però vabbè tanto la maggior parte dei ragazzi ci stanno seguendo speriamo che non ci sta ascoltando Mark speriamo che Mark non ci sta ascoltando eh il buon Lucconi sebbene settimana prossima state pronti perché non si sa mai già in realtà a Natale potevano succedere cose con la pausa natalizia la ripartenza dei campionati vediamo speriamo già ufficializzato il ritorno di Mornon in Prime League quindi è una bella cosa soprattutto per gli affezionati imperdibile per gli affezionati della Prime dal 2016 andiamo mandiamolo starting grid il tempo che tutti i meccanismi gli ingranaggi i marchi ingegni targati curati sempre verde Lorenzo Tamora in arte e Lopez che ci permettano di apprezzare nel migliore dei modi la grafica targata fit con la griglia di partenza le gif personalizzate di tutti i vari piloti in 17esima posizione Marco Gano ieri è stata la festa del papà quindi un buon ritardo ma auguri anche al buon Marco Lopez in 16esima posizione 15esima invece per Lucio Manno cartista CRG campione in carica lo scorso anno della Pro League 14esima posizione per Luca Bigno e la Wildcard Bar Alex in 13esima posizione Zeta Pro Mauro in 12esima e Mattia Metrano in 11esima entriamo nella zona punti con Allacchi Cesco in decima e Manuel Juve in nona l'autore la scorsa settimana in catarti una strategia particolare che peccato per gli ultimi 5 giri non ha pagato Dragoli è evitato in ottava e Giovi in settima fa piacere ritrovare Giovi anche rapido in qualifica sempre grande stratega in gara sesta posizione per Stem e quinta per Luca Flaminio quarta per D-Legge terza per Shumi Legend e poi lì davanti coloro che insieme a Luigi in quarta posizione corrono per il titolo J-Sport VR46 in seconda posizione e Fabio il surname in pole position per quanto riguarda le gomme andiamo a snocciolare qual è il dato non c'è moltissimo da raccontare è un impietoso dominio da parte della gomma gialla a livello strategico quasi tutti immagino andranno su una doppia sosta a meno di Safety Car c'è giusto da capire chi magari consuma meno se vorrà preferire la doppia rossa o gialla gialla rossa o gialla rossa gialla insomma bisognerà capire come si andrà ad evolvere la gara soprattutto è al il fattore Safety Car e meteo imprevedibilità che potrebbe segnare questo sedicesimo round con la Master League Gran Premio del Brasile penultima gara Torna Movienza Torna Mornon Max posizionamento richiesto da parte del gioco ai piloti posizionarsi nel migliore dei modi prende molto spazio Marco Ghanu per andare a parcheggiare la sua Ferrari sulla diciassettesima ed ultima casella per poi dare il via al diciassettesimo round al sedicesimo round con la Master League 2023-2024 Fabio il Sordame e G-Sport dalla prima fila attenzione a G-Sport perché qui chi parte secondo riesce sempre ad avere qualche metro di vantaggio e sembra già andare a affiancare G-Sport nei confronti di Fabio il Sordame che però un grande proseguimento da parte della sua Alfa Romeo gruppo selvagissimo ovviamente qui all'S2N che però molto educato se non per l'ottava e non la posizione un po' di scambi mentre nella top 5 sono stati tutti abbastanza tranquilli senza esagerare o forzare l'attacco Slam nei confronti di Giovi la va a perdere invece nei confronti di Giovi anche a Metrano entra in top 10 nei confronti di Cesco Lopes che la perde soccartista Baralex la perde da Luca Bigno insomma fase rocambolesca come è classico in questi primissimi giri in particolar modo qui in Brasile nel T1 e verso la corsa alla staccata di curva 4 poi qui nel guidato c'è poco da inventarsi nonostante ciò Cesco e Zeta Promauro continuano a battagliare alla Pinerigno poi verso la Bicotupato con Zeta Promauro che all'interno nei confronti di Cesco quasi ad impattare la possibilità di destra di Mattia Metrano ciò gli compromette la trazione e riporta davanti l'Aston Martin di Alla Chichesco battaglia subito in testina tra questi due piloti per inseguire la zona punti sovra Sterzo già appena scende dal cordo la lascia un cao per Zeta Promauro che compromette subito ma immagina dovrà andare ad utilizzare molto più Hertz J-Sport intanto si prende la leadership nei confronti di Fabio il surname fa registrare la migliore prestazione visto attenzione anche prove di volata eventualmente nel finale sebbene poi sarà attivo anche il DRS molto selvaggi molto stretti i piloti in curva 2 soggetta spesso anche al limite della pista sembra non voler rimanere dietro Fabio il surname che prova ad andare all'interno in confronto di J-Sport alza il piede verso la staccata di curva 4 un po' slide dal posteriore dal posteriore dell'Alpina DJ si è andati per una ripartizione della frenata abbastanza improntata sul posteriore una pista dove eccetto qui nelle T2 che si utilizzano marce molto basse quindi bisogna particolarmente prestare attenzione in trazione magari appoggiare qui in particolar modo la Pinerigno il gas a centro curva non stare troppo tempo in rilascio visto che di solito è la fase dove il canale Venturi insomma l'effetto solo si va tra virgolette a spegnere su questo gioco e si comincia a far ruotare e consumare un po' troppo il posteriore bisogna avere quindi una ripartizione della frenata che aiuti in inserimento piuttosto che a centro curva ritrovarsi a correggere la propria traiettoria giro 2 di 71 in conclusione con J-Sport davanti a Fabio il surname Shumi Legend di legge e Flaminio cambiato pochissimo nelle prime 5 posizioni cambiato poco per la verità un po' in tutto il gruppo come vediamo dalla grafica non c'è nessuno che ha svettato per aver guadagnato più posizioni in questi primi giri soltanto una posizione da parte di Bigno su Baralex una diametrano su Cesco Cesco che rischiava di perdere anche su Zeta Promauro Jovi su Stem e J-Sport lo abbiamo visto in precedenza nei confronti di Fabio il surname tra l'altro con il DRS che era ancora chiuso quindi ciò potrebbe già essere specchio di un eventuale setup leggermente più scarico da parte del pilota al pin oppure di un J che magari ha deciso di voler stare davanti e frapporre un avversario in più e anche in realtà impedire il rientro in corsa per il titolo da parte di Shum di non pardon di Shum Legend non me ne voglia il buon Matteo purtroppo è fuori per da un po' di gare per la corsa al titolo diciamo che si ormai è fuori dalla lotta ecco che conta ovviamente non vuole intendere Shum Legend ma Fabio il surname che sebbene J è di legge sono vicini dalle classifiche del Qatar per soli tre punti intanto continua ad affacciarsi il buon Fabio il surname come vedete alla graffina il suo impressione mano mano si va ad aggiornare in questo momento di legge paga una quarta posizione ma l'ennesima ripetizione in questa master vediamo se intanto Fabio con il DRS va a sverniciare la Alpine di J Sport e si rimette in prima posizione e dicevamo ripetita Juvent con questa master league livello altissimo quindi anche i piloti che tra virgolette si nascondono nelle posizioni di rincalzo attenzione ovviamente alla loro risalita perché abbiamo avuto un enorme riprova la scorsa settimana in Qatar con J Sport che occupava la sesta e Luigi ottava non a posizione poi sono arrivati i primi e secondi con una strategia davvero ingegnosa e un passo gara in particolare il primo stint nonostante la gomma gialla consumata invidiabile anche da chi aveva una rossa decisamente più fresca vediamo 4 di 71 in conclusione vediamo il ritmo che decida in questo momento allora di imprimere alla gara Fabio il surname sono tutti nel secondo restiamo un momento con J Sport per vedere se torna all'attacco chiude l'ala addirittura quindi non vuole passare qui forse tenterà l'attacco in uscita dalla S2 Senna verso la staccata di curva 4 e poi eventualmente in realtà c'è poco da inventarsi nel guidato per tentare di staccare Fabio il surname c'è eventualmente la voglia magari di avere aria pulita e non soffrire il sottosterzo e prendere degli avvisi non mi viene degli avvisi dall'Iroshi è stupido che stai nel centro gruppo freni prima per non tamporare quello davanti arrivi più lento tagli leggermente non guadagni non volevi però sei stato un cretino devono stare attenti come hai detto tu devono stare attenti comunque a queste situazioni più che a onestamente andare via questa pista con questo livello qua la vedo un po' difficile quindi tutta la gara sarà così vedremo un attimo anche l'evolversi del meteo che probabilmente deciderà ecco come andrà questo questo gran premio si rischia una prima frattura nel gruppo si potrebbe staccare l'ultimo vagoncino Marco Gano in realtà il gruppo è molto vicino quindi in frenata può tornare sotto Marco e rientrare in zona di DRS con Lovski vediamo lì davanti con J-Sport che torna al sorpasso nei confronti di Fabio il surname che desiste in staccata non ha assolutamente senso forzare la manovra Lovski la coda del gruppo fa segnare la migliore prestazione probabilmente Lorenzo Damori che si era leggermente allontanato da cartista per avere anche un po' di aria pulita e non rischiare soprattutto i rallentamenti di gruppo e gli eventuali tamponamenti in questo modo molto vicino a cartista intanto a Baralex va addirittura all'interno riesce al sorpasso Lucio Manno con Baralex che purtroppo per lui sta già lampeggiando è davvero presto per ritrovarsi senza l'ausilio della batteria della parte ibrida dell'HERS che è successa la live della Pro League perché non c'era Antonio Giuliano bevi dalla chat è in fase di edite credo sì allora c'è stato un problema nell'editarlo quindi domani dovremmo pubblicarlo comunque il video della gara molto bene Matteo Geraci Marco Gano ha un problema con il freno che gli resta pigiato di qualche percentuale un Marco Gano è la Leclerc allora in Austria in questo momento con davvero una sensazione fastidiosa che ti ritrovi a centro curva cioè vuoi puntare il muso della tua vettura a centro curva ma il freno rimane pigiato e quindi ti rallenta ancora di più la corsa della tua vettura in particolar modo qui a curva 1 dove si vanno anche delle traiettorie leggermente differenti tra pilota e pilota in particolar modo differente quando si tenta di attaccare si punta ad entrare molto più alti a ritardare il punto di corda andare quanto più possibile in impostazione curva 2 sulla sinistra ovviamente cercare un po' il taglio del cordolo quest'anno via libera ai piloti ci si affida a mamma potremmo ironicamente avvisare tutti i piloti che Marco Gano è senza freni eh sì nel dubbio quando si vanno la ruota a ruota occhio e quindi in quel frangente poi c'è questa differenza eventuale ma pochi centimetri di traiettoria per favorire ovviamente la velocità in trazione verso curva 3 e tentare un attacco alla staccata dell'A4 per Gano è una situazione fastidiosa nonostante ciò comunque riesce per il momento mancato in effetti qui il punto di corda è l'abbicotupato per il momento comunque riesce a rimanere in coda a Lorenzo Tamori e quindi a chiudere il settimo giro iniziare l'ottavo con tutti ancora i 17 piloti della Master League in zona di DRS forse sciumi su Fabio è solo un tentativo di affacciarsi è più una spinta a invitarlo ad avvicinarsi a J-Sport è una delle difficoltate quando si fanno queste gare di gruppo che magari tu sei il primo degli inseguitori non vuoi forzare il passo sul primo ma ovviamente hai altri 15 piloti dietro di te che invece ti spingono pensano in quel momento di averne di più e c'è poco in realtà da pensare di poter passare scappare ecco qui saranno fondamentali gli undercut capire eventualmente se il meteo visto che lo abbiamo mezzo spoilerato sarà così tanto variabile è prevista l'arrivo di una leggera pioggerellina poi una roba che come nella realtà credo rischierà di smontare le tribune poiché ho paura di quella nuvoletta arrabbiata poveri la nonna esaura dovrà ritirare i panni la nonna è nella stanzina nel riparo si rischia di staccare il triello Baralex Lopeschi e Marco Canu sovrasterzo da parte di Baralex lascia un cavo in trazione e cerca di rientrare ma ciò si traduce in un'ulteriore perdita decimini preziosi importanti nei confronti di cartista che anche gli lampeggia quindi magari nel T2 nel guidato Baralex può cercare di andare con più fiducia a forzare qualche metro di staccata e provare a ricucire questi due decimi che però soltanto il rettivo principale sono già diventati 4 da dover chiudere per tornare in zona di DRS oppure cercare il touch il cambio con Lorenzo Damori che ci prova adesso verso curva 4 con grande slancio per prendersi la quindicesima posizione e provare a rientrare nel secondo con il cartista si sono scambiate le posizioni due volte la Chicesco e Luca Bigno dalla 4 e poi verso la Ferradura quindi forse un tentativo d'attacco da parte di Luca Bigno non è andato a buon fine e si è rinfilato invece all'Achicesco peloti che già nel primo giro sono stati in battaglia a scambiarsi le posizioni cioè è stato di mezzo anche Z da Promauro con una battaglia prolungata qui alla Picotupato poi verso la Shunkao proprio con all'Achicesco pilota basta un Marte che comunque si riaccoda a Mattia Metrano abbastanza calmi abbastanza in ombra Drago Levitato non abbiamo mai visto forzare le manovre in questi primi dieci giri abbastanza vicino anche Flamino nei confronti di Dileggio arriva addirittura sotto i due decimi alla staccata di curva 1 anche gli spinto invitato dall'altra Hasso non è quella di Shumi questa volta è quella di Giovi a forzare avvicinarsi almeno in staccata anche magari di concentrare leggermente rischiare un'enorme carambola lì davanti DJ Sport guida sempre questa telecamera che taglio si è permessa di fare Mamma Codemaster eravamo in coda tanto ancora battaglia questa volta con Manuel Juve ha perso la posizione nei confronti di Mattia Metrano di nuovo sempre verso la ferratura quindi forse stanno cominciando ad avere un piccolo calo con le gomme gialle in trazione e magari sta portando i piloti a commettere qualche errore alla subita du box no pensavo fosse arrivato un nuovo messaggio in chat invece è sempre quello del buon Kaisermatt Kaisermatt si è invitato ad un altro messaggio mi hai fatto sprecare un'occhiata classifica in sopravvissione che intanto si aggiorna con G Sport che diventerebbe leader del campionato con 238 punti 227 invece per Luigi di Lecce vediamo se replica l'acchi cesco nei confronti di Manuel Juve sembra che è la lotta più intestina più arrembante in cui cambio di traiettoria da parte di Alacchi cesco alle spalle di Manuel Juve si va a prendere l'esterno verso curva 1 manovra per carità tutta segnata dal DRS un buon uso immagine immagine in particolar modo trazione trazione della parte ibrida dell'Hertz tutto sommato empatica enfatica arrembante visto il cambio di traiettoria dall'interno verso l'esterno una parte di Alacchi cesco davvero millimetrico alle spalle del cambio della Mercedes di Manuel Juve che dalla nona posizione in un giro scivola fuori dalla zona punti undicesima casella per la sua Mercedes continua sempre a pressare a forzare Giovi nei confronti di Flaminio ma lo stesso Giovi è obbligato a farlo visto la vicinanza anche egli nei suoi confronti da parte di Stem diciamo che in questa fase stiamo assistendo a quello che ci aspettavamo quindi un lunghissimo trenino nulla di nuovo in attesa della prima mossa e della prima pit stop da parte dei piloti anti-WT anti-W-Boy perdona non è Kinga Boy non è Kinga Bio per ricordare un'ennesima pro-lique un'ennesima nata dal cata formale talentino buonasera ragazzi buonasera anti Max Basile la pioggia è parte integrante dello spettacolo a parte l'ovvio 2008 ricordate un fisichella che con una misera Jordan dall'ultimo a primo con una serie impressionante di incidenti era il 2003 se non vado errato dovrebbe essere l'incidente nella quale si era fatto male Alonso sull'archibancadas e poi insomma la gara è meglio spesa sì che sfasci sì c'era stato poi lo scambio di coppe a Imola per le posizioni sul podio fu uno dei podi che forse ha cambiato più volte nel corso di una settimana e non era un podio se è deciso da fit con le penalità o mamma con i master o i piloti che non caricano i giri ogni tanto quindi sì esatto grazie mille Max perfetto mi duele dire che si sono staccati definitivamente gli ultimi tre dei vagoni di questo trenone che va dalla prima alla quattordicesima posizione Baralex ha cercato il cambio una spinta in più da parte di Lopsky che ci ha provato per qualche giro ma ormai sono sprofondati a quattro secondi in fronte di kartista penso che possano permettersi un difficile all'undercut quattro secondi comunque chiuderli sono difficili se si torna su una gomma gialla se invece si va sulla rossa e si va speranzosi che la pioggia entri il prima possibile sono chiudibili quindi vediamo se Baralex e Lopsky trovano un modo di collaborare e rientrare nei confronti di tutto il protone ecco come non detto frame di pioggia quindi comincia a piore sul tracciato di Interlagos battezza questa pioggia Lopsky con un pronunciato sovrasterzo in trazione a curva 2 vediamo se magari la pioggia può aiutare Gano visto che magari i piloti arrivano lunghi hanno i riferimenti dell'asciutto quella percentuale in più di freno che il pedale obbliga Marco Gano a magari speriamo spero per lui magari riesce a non solo battagliare per la zona punti ma anche guidare senza doversi tormentare in questo modo ovviamente potrebbe avere un ruolo importante per lui di legge perché è l'unico da davanti che potrebbe avere un compagno anche se in questo momento è ultimo quindi molto lontano beh si può dare qualche nozione in più qualche dato in più con la pista che mano mano vedremo insomma siamo arrivati a fine gioco abbiamo imparato che dobbiamo aspettare il caricamento delle texture con la pioggia comincia ad affacciarsi comincia a venire fuori Drago Levitato più vicino e staccata nei confronti di Stem arriva intanto il sorpasso a parte di Lopez che nei confronti di Baralex per cercare un ennessimo tentativo di fionda va al sorpasso invece Fabio Il Surname che si attiva subito nei confronti di J Sport per poi tentare di stare davanti anche quando comincerà il waltzer del bistop per passare alla mescola intermedia a questo punto tutti quanti i piloti se la pista insomma si bagna nei prossimi 5 giri potranno comodamente arrivare con questa gomma gialla alla finestra per passare sulla mescola intagliata la gomma intermedia a banda verde portata dalla Pirelli come di consueto in questa stagione 2023-2024 ma ormai credo almeno 10 anni ora non ricordo di preciso quando è stata introdotta la colorazione credo almeno 2014 no ma già nel 2010 forse c'era la colorazione classica per il cinturato Pirelli ah sì prima del 2014 direi sì J-Sport si va a riprendere la posizione questa volta verso l'esterno di Curva 1 fa lo stesso tra quelli evitati nei confronti di Stem va anche bigno nei confronti di Manuel Juve che si sta fermando per la sua sosta quindi il primo dei piloti a tentare la carta della mescola intermedia vediamo se Fabio risponde nei confronti di J-Sport perché il detection point è posto dopo la staccata di Curva 1 in realtà la trazione di Curva 2 quindi c'è anche la possibilità di chi subisce un sorpasso di tentare la contromossa Manuel Juve ovviamente come vedete banda verde per la sua gomma che va a calzare quindi tentativo di dare qualche dato a Drago Levitato ma insomma lo terranno tutti sotto controllo in questi giri il tempo di far scaldare la gomma non sembra ancora oh ho visto un sovrasterzo forse Giovi tra la sesta e la settima posizione sembra molto ancora asciutta la pista onestamente ragazzi cosa significa desegretazione fit è una cena a luce di candela con te e il taccuino di Marco Luponi 10 anni anche di più 15 ormai molto probabilmente di archivio fit e soprattutto nomi segnati cancellati non ci arriverà mai nessuno però quando succederà dovrai tanto torniamo in pista Fabio il surname nei confronti di J-Sport di nuovo dentro a cura 1 attenzione perché è andato leggermente lungo quindi potrebbe arrivare l'incrocio di traiettoria da parte di J-Sport per riprendersi la prima posizione e mettere in atto ciò che vi dicevo in precedenza eccolo qui il DRS posto aperto sulla della pin di J-Sport per riprendersi la prima posizione 1671 uno sguardo ai tempi di Manuio Juve è ovviamente presto la gomma intermedia deve accendersi intanto Manuio Juve è l'unico dei piloti ad avere un danno al suo fondo leggermente danneggiato un verdino come vedete anche dalla grafica in sovrimpressione quindi l'anno sotto anche al 10% 31,5% ma è il tempo con la sosta quindi dobbiamo ancora aspettare un po' ed anche questa immagine è on board con J-Sport non sembra la pista ancora sufficientemente segnata macchiata o renderizzata banalmente dal sistema insomma dal motore di gioco con le master ormai ha decisamente vettuto sì non è ancora forse sta un po' migliorando la guida sto guardando un po' la tua la tua Mercedes però i tempi sono simili occhio ma ne boxo alcuni piloti sì smuove la carta J-Jovi con la Haas si era affermato che era appena davanti tra cui levitato quindi in sesta casella vediamo allora come si andrà a comportare anche Giovanni Costa uno dei piloti che più ha espresso la crescita per quanto può avere insomma un sim driver tra virgolette su forma italiana ma agito in ogni campionato entrato in prime league su F1 2021 un po' alla volta passo dopo passo grande salto direttamente dopo la prime direttamente in pro league con una distanza di gara al 100% che esprime ancora di più non solo la sua visione strategica ma anche il momento giusto nella quale andare ad effettuare i sorpassi e poi dopo l'annata in pro del 2021 passaggio in master già l'anno scorso e si è davvero più volte ben difesa ha figurato davvero bene un po' di sottosterzo qui per Schumann la Shunkao piloti che cominciano a faticare con le condizioni meteo ma come detto in precedenza non mi sembra ancora sia adatta la pista a poter pensare che siamo nel momento ok mi fermo adesso perché dando a metà di questo giro la pista diventa da bagnata 22% l'usura è praticamente uguale tra Shumi Legend e Fabio Il Surneve soltanto Shumi più dolce sull'asse anteriore per quanto riguarda le sue gomme rispetto a quanto fatto per il momento da Fabio Il Surneve che si è anche concesso qualche giro a pista libera sta perdendo meno Manuel però ancora un po' più lenta la sua intermedia box anche per Lucio Manno in arte che artista 98 CRG per andare anche sulla mescola intermedia piloti sì piloti meccanici Williams che lasciano le pistole non gli interessa rimettere a posto lasciano un disastro ogni volta effettuano un pit stop si è staccato bigno invece nei confronti di Cesco un secondo e due così come Zeta Promauro e quindi particolare che questi due non vorrei siano arrivati a un leggero contatto torna sotto bigno qui nel guidato visto che il rallentamento di gruppo in particolar modo in frenata permette nonostante magari qualche errorino nel T1 magari per Luca Bigno gli concede di poter tornare sotto detection point a posto qui in trazione in salita sull'arche bancata se questa linea bianca posta a terra 1.051 non potrà attivare l'ala mobile vediamo se magari decide di cambiare la sua gara ed andare a box per il momento no rimane in pista non tenta la carta della mescola intermedia aperta la finestra del pistop addirittura a parte del gioco che dice invita adesso almeno non so se invita anche i piloti sarebbe interessante saperlo ma almeno indica a noi spettatori che è il momento di parlare di passare alla mescola intermedia e parlare in effetti di gomma banda verde vediamo i tempi per capire salito sul 15.7 J Sport quando credo dovrebbe girare su un 12 12.2 12.3 fatto segnare fino al tredicesimo giro che poi insomma sono stati i giri immagino questi ultimi 5 all'incirca dove abbiamo cominciato a vedere le gocce d'acqua cadere sul tracciato di Interlagos quindi 3 secondi più lento rispetto al passo gara ideale immagino Manuel continua a perdere qualcosa comunque è l'ultimo giro credo che abbia perso quasi un secondo box anche per Baralex anche Iva sulla gomma banda gialla a banda no attenzione Zeta Promauro ritiro nel mentre che aveva commesso un errore Zeta Promauro cerchiamo nel mentre che aveva commesso un errore Fabio il surname safety car quindi andranno tutti quanti a box e cerchiamo la vettura Zeta Promauro eccolo lì un errore tipico purtroppo all'abbico dupato in trazione corso concluso la sua corsa contro le barriere e allora corsa selvaggia in pit lane per tutti i meccanici per permettere ai piloti di effettuare la sosta senza perdere la posizione ovviamente gomma banda verde per tutti J-Sport Fabio attenzione a rimanere bloccati sembra vada tutto bene forse Shumi su Fabio invece no riuscito a stare davanti Fabio al suo nome in confronto di Shumi di legge credo abbia passato Flaminio no credo Luca fosse già dietro a Luigi prima della sosta dovrebbe essere rimasto tutto molto invariato vediamo Cesco no rimane con Bigno anche chi si era già fermato si riferma si sono fermati di nuovo Giovi Cartista e si rifermano tutti quanti per andare anche questi su una mescola intermedia nuova ovviamente perché hanno un po' bruciata in quel tentativo di Undercut nei confronti di tutto il gruppo per cercare il giro buono Baralax solo non si è fermato quindi in questo modo recupera qualche posizione ma si era fermato un giro fa quindi non dovrebbe essere troppo stropicciata questa mescola intermedia sulla Alfa Tauri della Wildcard in 14esima posizione al momento Safety Car quindi per il ritiro di Zedapromauro guadagna tante posizioni in questo modo Marco Cano che credo avesse lo stesso Lopes che avevano aspettato la loro sosta l'hanno ritardata e quindi guadagnano in questo modo 4-5 caselle Andrea ha palesemente ascoltato un bevete ma voi no e quindi molto bene così l'ho riscattato anti W quindi grazie mille infatti intanto ho riscattato un bevete poi la desigretazione arriverà ho i miei dubbi credo Twitch chiuderà prima di poter arrivare a quel punteggio giro 21 di 71 quindi comincia a piovere sul tracciato di Interlagos sta piovendo ormai da 6-7 giri ma cominciamo a parlare seriamente di ciò che ci aspetta un'ora di pioggia almeno dal Trager Lifetiming che si andrà anche ad aggravare tra una trentina di minuti per portare i piloti a pensare a ragionare se è il caso di montare la mescola full wet giocarsi una sosta per andare dietro significherebbe poi doverle recuperare ovviamente quelle posizioni tentare stringere i denti e restare sull'intermedia o fermarsi ad andare su una nuova gomma intermedia per poi aspettare che invece la pista si asciughi sarà uno snodo fondamentale di questo GP safety car che è un po' la modalità NASCAR che di solito fanno quella prima parte di gara poi viene sospesa l'ennesima sospensione poi ci si gioca tutto nel finale vanno a stage quindi 21 di 71 non è cambiato troppo nelle prime posizioni per quanto riguarda Jay Fabio Shumi di legge e Flaminio almeno rispetto alla sessione di qualificazione si sono solo invertite la posizione scambiata scambiati la posizione Jay Sport e Fabio il surname come di consueto visto che il T2 termina quella Shunkao safety car che informa davvero in ritardo i piloti che si ripartiranno in questo giro dicevi Andre no dicevo in realtà forse non mi sentivi prima stavo parlando del discorso che anche Luca e Bigno aveva guadagnato qualche posizione in questa fase e allora si prepara Jay Sport a tornare sul gas lo fa in questo momento per provare a sorprendere Fabio il surname che fa guardia attenta ancor meglio Shumi Legend affiancato nei confronti di Fabio il surname con le telecamere che non ci aiutano dobbiamo vivere dal codone dell'Alpine di Jay Sport che si vede avvicinato e staccato da parte di Fabio il surname tenta ancora di guadagnare qualcosa sempre a Lucky Cesc e Luca Luca Bigno questa sera in grande bagarre prolungata a questi due piloti primo spettatore Mattia Metrano con Cesc che sembra riuscire ad allungare qualche leggero colpo di lag da parte di Mattia Metrano speriamo sia tutto in ordine lì dietro si apre anche l'altra Williams di Cartista ancora Luca Bigno nei confronti di Lucky Cesc all'interno di curva 4 ancora insieme la 5 poi anche la 6 la ferradura vediamo chi dei due decide di esistere prolungato ancora questo duello all'esterno con la vettura mezza scomposta sul cordolo non molla nessuno e allora è la volta della Pinerigno sempre lì un duello meraviglioso dai sapori Prime 2021 Lopez che Raffoidex vediamo se alla fine costretto a desistere Luca Bigno qui all'esterno da Bicotupato c'è davvero poco da fare con un grande Lucky Cesc grandissima dimostrazione di duello da parte di Cesc e Luca Bigno sfruttando tutta la pista non perdendo il codone dei piloti davanti a loro con soprattutto queste condizioni meteo davvero molto molto bravi Ganun leggera difficoltà qui con Giovi che scondola pericolosamente perde due posizioni in trazione e si infilano Baralex e Kartista gruppo selvaggio qui dietro a Ganun che continua ad avere qualche difficoltà infrenata addirittura in quattro verso curva uno si devono aprire in quattro assurdo con la Williams all'interno Kartista che guadagna tre posizioni in un solo colpo grande mossa da parte di Lucio Manno che ne salta tre Giovi Baralex e Marco Gano nulla da fare per Giovi che era all'esterno in impostazione Baralex e Marco Gano che si sono ritrovati all'interno di questi due piloti aperti totalmente a sfruttare tutta la gareggiata del tracciato che momento al Giro 23 di 71 con il Gran Premio del Brasile e la Master Race in questo modo Kartista va in dodicesima poi Gano Giovi Baralex e Manuel Giovi Jacopo Jacopo sta scappando ne approfitta allora Jacopo Rochita di questa fase di apprendistato tra virgolette da parte di Fabio Il Sorneme della pista in queste condizioni così mutevoli come abbiamo detto in precedenza è il momento nella quale continuerà a peggiorare questa pioggia e si potrà addirittura arrivare a pensare alla mescolata intermedia tanto sotto Sterzo qui all'Aciuncao totalmente mancato il punto di corda Fabio Il Sorneme poi si muove anche tanto in trazione però sta guadagnando qualche decimo in confronto di J-Sport che forse è andato più conservativo in quella fase evidentemente quest'anno l'Aciuncao per prendere qualche decimo importante bisogna essere aggressivi di RS abilitato Andre cosa hai premuto dalla direzione gara? Non ho premuto nulla sono rimasto pure io abbastanza disabilitato per non dire altro Vediamo allora credo non lo avranno in realtà a disposizione se viene il detection point apposto in trazione come abbiamo detto in precedenza alla T2 invece di RS aperto sulla Ferrari di Marco Gano che si trova appena dietro Lucio Manno anche Giovi si avvicina a Gano lungo leggero da parte di Cartista che però ciò gli lo porta a perdere la posizione nei confronti di Gano forse anche nei confronti di Giovi che deve andare all'esterno nella ferradura a fare tanta strada in più ma cercare di portare un po' più di velocità lo aggira totalmente no testa da parte di Cartista attenzione che rischia di rientrare bravo è riuscito a fermare la corsa della sua vettura perché il pericolo guardate quanto è arrivato vicino poi a rientrare in pista totalmente di schiaffo e il rischio di colpire il pilota davanti a lui quindi fortunatamente è pinzata da parte di Cartista per fermare la corsa della sua Williams dopo una manovra incredibile al Giro 21 è arrivato questo errore che è un po' fissiomatico fisiologico in quella fase perché tanto angolo di sterzo in bagarre con la vettura all'esterno vai a pinzare la ripartizione della frenata come dicevamo in precedenza qui è abbastanza improntata sul posteriore per aiutarsi e magari non si è ricordato ciò Lucio oppure ha tentato di forzare la staccata testa con e quindi gli permette di lo obbliga a scendere in sedicesima ed ultima casella andato ce l'ha fatta finalmente i giovani in confronto di Marco Cano che con questa difficoltà ai freni continua a soffrire undicesima posizione per Lopeschi che si è staccato da questo gruppo dietro di lui in battaglia sta cercando di avere la carotina lì davanti di Mattia Metrano la direzione gara che adesso si aggiorna si ricorda che sta piovendo sul tracciato di Interlagos e quindi va a disabilitare il DRS e vediamo se arriveranno ennesime selezioni di passo di feeling con il bagnato su questa pista lo ridicevamo in apertura J-Sport vinse proprio la sua prima gara in Master League su questo tracciato con un oggettivo diluvio all'epoca correva nella la Sauber con la livrea che se non ho avuto era ancora quella bianca e blu quindi sì esatto quell'anno credo Ericsson Verlein mi parla beh ricordi un po' così diciamo sì il grande Ericsson tra l'altro quell'anno J era in squadra invece sempre restando in tema Master League con Alberto 2-2-2 quindi Alberto Foltrano che arrivava appena conquistato il titolo di Sport League sì sì vero era con Alberto diciamo fu la prima Master del cambio generazionale perché diciamo Saro Saro Prostero Saro Sinagori gli impegni lavorativi lo portarono allearsi di meno fu l'annata dell'addio a fine stagione con di Davide Bertotti in arte magic fu il primo anno senza Amos Laurito in arte studio del Sestate F1 senza mostri tacri diciamo eh in pista avevamo Matteo Pittaccio invece che vinse a Montecarlo forse Medio pure non so se non mi ricordo se Medio pure quell'anno inizio a fare qualche non credo sicuro 2019 in Red Bull con Luca D'Amico ah sì 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 Luca D'Amico sì 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 mi fai sentire più vecchio di quello che sono caro Raffaele più che altro ne comincio ad accusare qualcuno sempre che almeno 5 o 6 minuti per carità però comincia ad esserne passata di acqua sotto i ponti e per il momento no cartista intanto il primo dei piloti ad avere ricevere una penalità di 3 secondi per il limite della pista altre passate qui tutto sommato magari la 2 un po' invitante forse qualche errore se si va larghi alla ferratura poi il resto della pista non ci sono troppe possibilità di prendere secondi penalità se non ecco per oggettivi errori gioco eventualmente incrementi qui ogni tanto si può andare l'archi e allargarsi un po' qui sulla linea bianca e il gioco severo va a dare un avvertimento scambio di posizione intanto per Luca Pigno e Lachie Cesco che non si vogliono separare più Cesco perde la posizione anche nei confronti di Mattia Metrano quindi forse un suo errore magari in trazione alla curva 4 gli lo obbliga a perdere due posizioni no davanti stavo guardando che Fabio è l'unico che cerca di tenere il passo di J-Sport non riesce mentre ora dietro si è creato una voragine attenzione ora Fabio che perde la macchina con D-Legge che addirittura ha 3 secondi da Schumi D-Legge lo vedo a 7 D-Legge da Schumi vedo tutto il gruppo compatto dopo Fabio ah no no scusami no no perdonami perdonami a 3 secondi al primo sì sì perdonami attimi di panico in casa Ferrari già aveva scritto attenzione ho visto Schumi nei confronti di Fabio sì all'interno Schumi 91 Legend Matteo Lacerza nei confronti di Fabio il surname che si ritrova si ritaglia un varco all'interno di curva 2 per resistere scondolata da parte di Schumi che rischio che pericolo si è rischiato ad agganciare con Fabio il surname arriva allora come lo squalo il muso della Ferrari di Luigi di Legge all'esterno di curva 4 gli sbatte la porta in faccia a Schumi 91 Legend e allora nulla cambia ringrazia J Sport per prendersi altri 7 decimi da 1 e 9 si sale a 2 e 6 vola via nuota più che vola in queste condizioni Jakub Rokita verso per carità presto 28 di 71 verso l'eventuale vittoria del GP è la leadership della classifica piloti con abbondanti 10 punti importanti in questo momento nei confronti di D-Legge soprattutto in una master lo abbiamo detto in ogni salsa quest'anno che ti può portare dalla prima così come alla nona decima anche sedicessima posizione Raffa grazie tu ti abbandono lunedì Sport League per editare non è nemmeno quotata la coppia tu come Kiroshi alla prossima al prossimo ma ho visto che l'Uni Krikonen le porte della Pro sono aperte perché in diversi passaggi vengono vengono comprendo la fatica perché la preparazione della gara non dovrei dirlo non è così invitante però almeno il 21 che io mi sono abbastanza allenato all'inizio è importante la qualifica per cercare di stare con il gruppetto davanti e ti tiri con il DRS poi tanto ciò che accade in gara con il DRS è talmente potente che anche se non ti sei allenato sul passo gara di quei 5 decimi li riesci a chiudere quindi se magari stai sereno con il gruppo te la giochi nel finale quindi la gara per carità è stancante al 100% rispetto a chi è abituato alla 50 lo stesso Canino mi diceva che lui la voglia ci sarebbe in particolar modo perché vede che insomma la sport la distanza di gara è dimezzata quindi sappiamo che è sempre più frenetica che questi piloti più puliti più conservativi magari non riescono sempre ad emergere e avere anche risultati che insomma motivano a continuare a preparare la gara ad allenarsi e Luni ciò diceva anche lui l'impatto con la Pro in Qatar si è davvero divertito a Jedda non era andata bene in Qatar decisamente meglio e restato lì con il gruppo con il DRS si è potuto oggettivamente divertire lo avevamo sentito davvero soddisfatto poi nelle interviste post gara quindi per carità porte sempre aperte ben vengono piloti che certo in questo modo tra virgolette sto denigrando la sport però è più verso l'e-sport la sport bisogna essere tra virgolette cattivi perché è la metà del tempo eh no ma ne parliamo spesso che comunque il 100% è comunque un campionato impegnativo a livello di tempo di fatica sono gare proprio diverse è un altro proprio campionato quindi voglio che parliamo veramente di gare molto diverse ecco anche se si va a commettere un errore non solo con la safety car ma in un modo o nell'altro diciamo si ha la possibilità di ricostruire la propria gara e uscire soddisfatti anche da una nona decima posizione magari sento tante volte i piloti tristi in sesta posizione però magari invece soprattutto poi quando si è quest'anno o la prossima è sempre stato un buon numero non ricordo gare ma un po' in tutti i campionati forse solo la prime mi pare che ha sofferto un po' ma rispetto alle altre stagioni è stata la stagione nettamente migliore delle ultime sicuramente apprezzabile l'impegno e il portare a termine l'impegno nonostante i vari obblighi della vita intanto si affaccia Drago nei confronti fra mio ma ha nulla da fare e Omoni dalla chat insomma secondo te chi arriverà a primo secondo e terzo in Australia chissà chissà chi arriverà a primo io ci spero sempre almeno una per Norris se Piastri vince una gara prima già ha vinto una sprint prima di Lando se ne vince anche una sulla lunga distanza insomma credo Lando spacca tutto l'offerta l'Australia è un circuito un po' atipico in cui le doti magari la dinamica della Red Bull non sono non vengono esaltate però e sai che siamo ancora in quella fase della stagione che la Red Bull si porta ancora il vantaggio del non solo 23 ma anche del 22 tra virgolette e quindi penso sarà una simile Jedda passerella Red Bull per carità le varianti i muretti sono vicini ma insomma lui era un gagetta il giro in qualifica assurdo come ok bella la storia di Berman ma indecente indecente no non è giornalisticamente corretto non esaltare quanto sta facendo Verstappen per carità è sempre lui che vince basta l'innolandese però l'attacco intanto Giovi a proposito di attacchi nei confronti di Lopeschi è andato a rientrare nei confronti di Lorenzo Damori che dai due secondi nei confronti della Chicesco è purtroppo scionato a 5-2 difficoltà sul bagnato in questo frangente per Lopeschi che cede la posizione intanto a Giovi grande sovrasterso però da parte Giovanni Costa qui alla 2 contro sovrasterso da parte di Lopeschi che per riperdere quei centimetri anche metri per la verità che aveva guadagnato nei confronti di Giovi si esibisce anche lui in questo posteriore ballerino per ristaccarsi dal pilota e mannaggia ha deciso di essere problematista delle nostre inquadrature è la vettura di Alonso che sta guidando che lo sta un po' e allora presto dietro di Marco Gano vediamo se insomma riescono a trovare Gaudio Gioia e Bagarre anche questi piloti qui nelle retrovie chi ci ha perso tanto in effetti dal primo stint con la safety car e la pioggia è Manuel Juve che era nono prima della sosta dietro Drago Limitato ha prima subito due sorpasse nei confronti di Lachicesco e Luca Bigno poi ha tentato la carta di fermarsi prima per montare l'intermedia safety car che lo ha di nuovo riportato ai box e quindi è uno dei piloti che era comodamente in zona punti o almeno ai margini che adesso si ritrova in quattordicesima posizione e il gruppo è decisamente staccato 5 secondi 8 da Lachicesco vediamo come si muovono Marco Gano nei confronti di Lopes e nulla da fare per Lopes che torna in box lo fa in una maniera un po' troppo angolata e quindi viene reimpostato dal gioco perde ulteriore tempo il terzo pilota aston martin ma torna in box per una nuova gomma intermedia a questo punto Luca Bigno riesce al sorpasso nei confronti di Slam sempre tanto arrembante Luca Bigno ecco Luca è uno di quelli che si la sport deve essere aggressivo però ha portato la mentalità sport in master perché lo abbiamo sempre visto aggressivo e voler forzare le manovre gli si è spesso riuscito e magari ogni tanto si qualche contattino di troppo però se su 20 volte per 18 funziona immagino per un buon 50% delle volte anche frutto di un'estrema correttezza da parte dei piloti che si trova ad affrontare ci può stare magari quella volta che si trova contro un muro tosto quanto lui e quindi si agganciano si portano fuori che bisticciano un po' i piloti diciamo che per lui è anche un campionato un po' di apprendistato l'anno scorso l'abbiamo visto con Schumi in un bellissimo duello quest'anno entrambi hanno fatto più fatica ma chiaramente in questo campionato qua con questa lunghezza e questo livello era prevedibile vediamo come si muove Drago Levitato nei confronti di Flaminio visto che adesso il gruppetto dietro di lui si è leggermente staccato con la lotta che c'è stata tra Luca Bigno e Stem Luca che si porta nello Zenito Stem a metrano Cesco 6 secondi per trovare Giovi Manuel Giovegano Baralex in 14esima posizione seguito da vicino da cartista poi Lopeschi che è stato il primo di piloti ad andare a montare un'ennesima gomma intermedia trazione positiva per Drago Levitato che tenta di affacciarsi nei confronti di Luca Flaminio ma nulla da fare qui c'è davvero poco da inventarsi per cercare la manovra se non insomma lancio un po' alla disperata ecco proprio in questa copra mi aspettavo ma insomma fa buona guardia Luca Flaminio vediamo se riusciamo a recuperarli Raffaele si è creato un gap tra la decima e l'undicesima posizione addirittura 6 secondi ormai 6 secondi e mezzo eh si è stata la posizione dove alla ripartenza c'era Gano abbiamo visto quell'incredibile duello con quattro vetture affiancate e poi un po' di bagarre prolungata che ha portato i piloti a staccarsi ancora di più invece a frutta di tutto passo il gap tra J-Sport e Fabio il Sordame solo una volta Shumi ha tentato un attacco un po' timido nei confronti di Fabio il resto è tutto passo lo vediamo a Urca Drago sul dritto addirittura molla il volante si arrabbia che non riesce a trovare spazio che immagine l'abbiamo felice insomma che siamo riusciti a catturarla in live un gesto di stanza da parte di Simone Caruso attenzione perché Fabio lo vedo un po' in difficoltà e ora si sono piombati tutti dietro vediamo se riusciamo a preparare intanto un compare del passo ma insomma è evidente che ci si attesta almeno su due anche tre decimi al giro di differenza tra non J-Sport non pilota 1 e pilota 2 che risalto errone pardon non tra J-Sport e J-Sport ma tra J-Sport va bene che sta dominando sul bagnato però così tra vince così è molto bene J-Sport nei confronti di Fabio anche quasi 4 decimi al giro guadagnati in partito al moto la forbice di guadagno in favore del pitotalpin si è aperta in questi ultimi due giri con un Fabio che è andato in forte difficoltà in partito al moto nell'ultimo quasi un secondo perso frutto più di un errore immagino piuttosto che del passo gara eventuale in queste condizioni sarà intrigante capire se è più una questione di setup per J-Sport che si è difeso tra virgolette sull'asciutto e adesso sul bagnato sta dando sfogo alle sue prestazioni da sfogo alla parte ibrida il pilota Mercedes Drago Levitato nel tentativo di attaccare Luca Flaminio all'interno di cura 1 dall'ombordo dell'altro Luca Vigno ammiriamo la manovra di Drago Levitato che dall'esterno della 2 poi fa meno strada alla 3 si prende la posizione nei confronti di Fit Flaminio campione della Sport League nel 2014 fu lui a esibirsi nello schianto dell'eroe a dar voce a Marco Gano in quel famigerato che fa fa un leggero danno al fondo Tukumic grazie mille Michael per la segnalazione in effetti dato l'ha ripassato l'ha passato anche Bigno nei confronti di Flaminio mentre che snocciolavo la chat i ragazzi invece in live dovrebbero averlo visto senza troppe difficoltà Bigno sta andando molto forte Raffaele perché sta tenendo il passo di quelli davanti chi è questo perdonami no che Bigno sta andando molto forte perché sta tenendo il passo dei primi 5 si sta risalendo il gruppo un po' alla volta forse la lotta leggermente pronunciata con Flaminio lo ha rischiato diciamo di perdere il secondo ma sta tenendo davvero botta cerca di ritrovarsi Fabio per mettere fuori dal secondo Schumi 91 Legend ovviamente DRS disabilitato recupera qualche decimino in Porta Andrea in confronto di J Sport a 5.8 in questo momento si aggiorna continua ad aggiornare la classifica sempre 11 punti di vantaggio da parte di J Sport in confronto di Luca Bigni da parte di Legge mi è perso di vedere una vettura andare lunga in curva 1 forse Cesco avevo visto una posizione un po' troppo alta oppure era una nuvola che ha tratto in inganno non ho visto nulla ma bene confermiamo anche dalla grafica dal live timing il danno leggero al fondo per Fabio il surdei ma a questo punto non mi pare è stato vicino con Schumi ma non sono arrivati al contatto deve esserci a questo punto un cordolo un po' traditore che potrebbe giustificare quei 9 decimi magari ha commesso un errore finendo leggermente l'arco e magari lì ha leggermente danneggiato il fondo della sua vettura tra l'altro le condizioni mi sembrano occhio di legge le condizioni della pista mi sembra che stiano veramente peggiorando adesso si continuano ad alzare tanta acqua tante correzioni anche qui in interazione per Luigi di legge che fatica a tenere il codone della house di Schumi Legend si vede abbastanza arrembante ravvicinato Drago Lievitato che probabilmente tenderà al surf in questo momento si fa vedere all'interno di Cura 1 ritrovo la traiettoria ideale vediamo 70 una traiettoria più larga l'impostazione qui sulla sinistra salta bene sul cordolo sovra a sterzo l'A3 dove purtroppo brucia tutto ciò di buono che aveva costruito l'impostazione tra curva 1 e 2 e allora credo che anche questo giro sarà costretto a passarlo alle spalle del codone della Ferrari di Luigi di legge altri 5 secondi di penalità per cartista dopo i 3 per limiti della pista questa volta sono per accelerazione in pit lane speed limit all'ingresso della pit lane e tu come scrivi che in realtà il danno sarebbe dovuto al contatto con Schumi a me lo ero perso non mi era perso fossero arrivati al contatto e insomma l'ennesimo peccato magari la percentuale è così bassa forse si sta facendo sentire sul bagnato ecco non saprei quest'anno con i danni al fondo diciamo in un modo o nell'altro i piloti hanno sette tenti sono riusciti a portarla al termine certo è che ovviamente con una master di un livello così alto si accusa il colpo ancora di più si assolutamente 7 secondi addirittura mamma mia inquadrato in questo momento anche dall'on board nella propria live su twitch buon simone fracchiola in artislam all'inseguimento fatto un errore fabio errorino di fabio errore errorino che diventa importantissimo che 3 secondi per ammonimenti multipli ha tagliato totalmente curva 2 è arrivato lungo alla 1 forse ha pizzicato l'erba infrenata perde la posizione in confronto di sciumi 3 secondi di penalità tanto che si fermano diversi piloti ai box per andare a montare vediamo se è un'altra intermedia vediamo se che si aggiorni o se è un'altra intermedia Luca Bigno Luca Bigno la vera con le intermedie si si assolutamente tutti un'altra gomma banda verde con Bigno che quindi va in undicesima posizione riesce a stare davanti a Baralex che si trova in bagarre con Lopeschi Lopeschi che va al sorpasso nei confronti di Baralex 74 dodicesima casella al momento per lui in attesa delle altre soste vedremo insomma chi tenterà di stringere i denti 8 secondi di vantaggio da parte di J Sport nei confronti di Sciumi ovviamente si è aperta di più questa forbice visto l'errore da parte di Fabio il surname diciamo che Jacopo sul bagnato non sappiamo come va soprattutto qui in Brasile Andi era già nel T2 per un errore non è Ametrano che ha perso la posizione sul dritto nei confronti di Cesco e dovrebbe essere Cartista è un errore di Cesco ha perso la macchina e anche la posizione nei confronti di nuovo mamma mia condizioni che stanno diventando critiche la pioggia ritira addirittura per Cartista sembra in pista la staccata la staccata la staccata bicotupato e qui J-Sport ne starà mandando di tutti i colori al pilota in Vesti Williams 9 secondi all'incirca aveva di vantaggio adesso si ampliano ancora di più per il Delta Drive Trooper Ametrano insomma lo stanno rispettando il Delta magari alcuni piloti non si sono accorti di ciò Baralex che si trova a dover superare schivare la Safety Car Giovi aspetta che Mylander si sposti prima di avvicinarsi e poi sorpassarlo molto saggio sotto questo punto di vista un po' di chiarezza insomma ritiro per Cartista che provoca l'ingresso di un'ennesimo Safety Car che genera delle penalità e sono un Drive Trooper all'Akicesk e Mattia Metrano mentre i 3 secondi di Fabio il Sornem non sono i 3 secondi diretti per il taglio che potevo pensare a curva 2 invece sono 3 avvisi e sono 3 avvisi in 3 giri differenti quindi credo siano 3 secondi sulla quale ci si potrà far poco nel post gara in questo modo virtualmente ringrazio di legge per prendersi la posizione ma tutti i box con la grafica che non si aggiorna dicendoci che vanno i box se mettiamo le penalità la grafica non ha abbastanza memoria o intelligenza virtuale mettiamola così per dirci che i piloti stanno andando in box ok bene j sport è comodamente effettuato alla sua sosta va ovviamente anche schumi fabio di legge tutti quanti sull'intermedia nessuno azzarda la full vuetta non si ferma bigno per guadagnare qualche posizione vediamo fino a dove riesce a risalire pilota williams che potrebbe stare appena davanti a fabio in lotta attenzione qui tanto vicini bisogna capire chi è davanti poi che sembra essersi riuscito ad infilare tra di legge e drago lievitato sembra essere quella la sua posizione non lo vedo spostarsi eccetera eccole qui con la grafica targata codemaster non codemaster formula italiana team il tracker lifetiming sulle telemetrie che ci giungono da casa codemaster Luca bigno come vedete quattordesima posizione di partenza in quinta in questo momento chi ne ha perso di più allora a questo punto probabilmente tanto forse l'Opeski l'Opeski partiva a sedicesimo e ne ha guadagnata una forse Joe ne ha perso tre ma in questo momento non c'è una situazione palese di chi ha perso più posizioni sarebbe meglio di chi ne ha perso tre all'incirca poi insomma c'è stato secondo safety guard talmente tanto rimescolamento delle carte in pista che diciamo è un dato che tra virgolette ha poco senso classifica che ovviamente si raggiorna adesso bisognerà ragionare anche sui tre secondi di Fabio il Surnè che cederanno il gradino più basso del podio a Luigi di legge giro 42 di 71 a livello meteo questa pioggia è prevista ancora per una buona mezz'ora quindi stiamo girando hanno girato sto comodo loro si stanno sforzando di girare sull'1 e 20 1 e 19 anche per J Sport era partito sull'1 e 15 quindi immagino che torneremo comodamente sull'1 e 15 forse anche 1 e 14 visto lo schiarico di carburante ma adesso ovviamente si perde tempo in questo frangente stanno già affrontando i piloti il momento nella quale si sta scatenando un'acquazione sul tracciato di Interlagos tra i 10 minuti previsti di temporale molto molto violento che in un modo o nell'altro tutti quanti i piloti in pista stanno tentando di affrontare con la mescolata intermedia nessuno ha deciso di passare infatti ti volevo chiedere secondo te non è il caso di mettere olle come da bagnato pesante finché si è sulla traiettoria ideale si riesce a gestire la situazione il problema è che non puoi permetterti mezzo metro in frenata soprattutto fuori dalla linea ideale si va talmente tanta l'acqua da dover smaltire che la gomma non riesce ovviamente ciò poi complica di molto le manovre di sorpasso quindi fossi uno di quelli magari un cesco che vuole risalire o giovi io l'avrei tentata la full wet perché se no non superi vediamo come si muovono i ragazzi alla ripartenza j-sport ricompatta davvero tanto il gruppo va torna sul gas per andare ad iniziare il 43esimo giro di 71 previsti con il Gran Premio del Brasile Fabio il surname molto vicino di legge nei suoi confronti bigno invece all'interno di legge ha guadagnato davvero tanto in velocità luca bigno dall'onboard di drago lievitato i due percorrono la S2 Senna ancora a fianco a fianco e luca bigno autore di un altro bellissimo sorpasso non approfitta anche drago per tentare la manovra non si vede nulla dagli onboard dei vari piloti una nuvola bianca si oppone tra drago lievitato e luigi di legge per complicare ancora di più la staccata con drago che riesce a chiudere la manovra nei confronti del pilota Ferrari che perde due posizioni va anche Cesco nei confronti di Flaminio che risponde alla ferradura nonostante le condizioni davvero critiche oggettivamente si vede davvero davvero poco va all'interno anche Manuel Juve nei confronti di Mattia Metrano non si mollano i piloti curva dopo curva continuano ad invertirsi le posizioni e Ghanu incredibile no purtroppo errore in trazione da parte di Ghanu alla Pinerigno sembrava invece poter tentare approfittare del momento nei confronti di Mattia Metrano una nuvola bianca veramente sommerge le vetture quasi si fatica a distinguerle assolutamente vediamo ovviamente un J-Sport 3 secondi bar Alex 3 secondi di penalità J-Sport sicuramente stizzito da questa safety guard che lo porta ad annullare i 9 quasi secondi di vantaggio nei confronti di Schumilagen adesso chiamato a ricostruire il suo vantaggio Vanne Box Lachicesco e Mattia Metrano non sembrano aver riportato danni sulle loro ali e anche per le gomme ma il dottotempi si aggiorna si rimane sull'intermedia anche usurata tra l'altro di 3 giri aspettiamo magari il T1 per gli aggiornamenti un po' pit lane pit exit insomma ci si passa poche ci passano poche vetture quindi oggettivamente bagnata e complicata da affrontare addirittura a Metrano e Cesco risultano doppiati dal monitor dei tempi anche no da quello Codemaster a 12 secondi da Lopes quindi attendiamo magari che si vada ad aggiornare o che adesso sembra tutto in ordine sono a circa 10 secondi da Lopes si e anche per la mescola intermedia di nuovo quella di 3 giri probabilmente è quella che avevano montato quando stava cominciando a piovere mentre tutti gli altri piloti erano ancora sulla mescola slick ah giusto avevano il drive through attentissimo Antonio grazie mille lì davanti torna a ricostruire il suo vantaggio jay sport nei confronti di shumi legend invece si porta in uno altro che zainetto che vuole quasi il sacco quasi una piscina per contenere tutti questi piloti e anche l'acqua che si appoggia sulle loro vetture shumi 91 legend fabio il surname in terza posizione che ha 3 secondi di penalità quarta posizione per un incredibile della sua risalita luca bigno si è stato bravo anche drago levitato a muoversi con i tempi giusti dall'ottava posizione di partenza al momento in top 5 sesta posizione invece per di legge che si era finora comportato bene alla ripartenza della safety car stato sorpreso da bigno e si è infilato anche drago levitato altrimenti il resto della sua gara è stato abbastanza pacato senza voler forzare i tempi settima posizione per un stem che di solito in qualifica lo vediamo sempre lì davanti grande qualificatore anche polman più volte quest'anno questa gara invece è scattata dalla sesta al momento in settima posizione è rimasto tanto tempo dietro drago levitato adesso si trova dietro a luigi di legge poi ottava posizione per un jovi ancora una volta in classifica altalenante due giri fa anche qualcosina di più militava in tredicesima posizione anche dietro lopes che adesso si ritrova in ottava e con la possibilità anche di potersi avvicinare nei confronti di stem e guadagnare altre posizioni cricone A moto di gustare questo sorpasso A parte di Fabio Il surname che nonostante tre secondi di penalità Tenta magari di provare Ad allungare nei confronti di piloti dietro di lui Per contenere insomma i danni E diciamo sperare anche un po' che Battagliando riesca ad aprire Nei confronti almeno di Immagino Stem, Giovi all'incirca insomma tre secondi Per guadagnare Portare a casa quanti più punti possibile Scappato già a quattro secondi invece Via J-Sport Queste condizioni veramente Il suo habitat naturale Assolutamente Altri quattro secondi già Mamma mia Dietro di lui invece La bagarre sempre aperta Selvaggia, molto molto ravvicinata Ecco questa è davvero una delle cose Che più sorprende quanto i piloti tengano Anche da questa immagine dall'alto La loro linea e soprattutto Non li vedi commettere quell'errore Quell'incertezza infrenata Rimangono tutti abbondantemente sotto il mezzo secondo Staccata Intanto Bigno si avvicina Nei confronti di Shumi Legend Incroce i traiettori verso la ferratura Molto vicini Quasi si agganciano i due C'è stato il contatto tra le due vetture Speriamo che a livello di fondi Sia tutto in ordine per entrambe le vetture Poiché Bigno si è appoggiato due volte Alla pancia sinistra della Haas Di Shumi 91 Legend In quella leggera piega verso sinistra E a porta della ferradura Non sembra ma Insomma Il volante va abbondantemente curvato Specie se si è in due E infatti arriva purtroppo Segnalatoci un leggero danno al fondo Per Shumi 91 Legend Vediamo se Gli creerà Ulteriori disturbi Troppe grafiche abbiamo Vi volevo recuperare l'immagine Con tutti e tre i piloti Che abbiamo su Discord Ma Si accavallano Le schermate In pista non sembra Succedere nulla Più noti per il momento Pacati nel loro inseguimento Si al momento sembra tutto Di stacchi cristallizzati Diciamo così E allora ci possiamo permettere Di gustarci qualche momento Anche ammirando I bei Volti e sguardi concentrati E nieni Invece no Ritiro per Mattia Metrano Che però Non sembra essere avvenuto in pista Ok è avvenuto ai box Ritiro allora Per la seconda guida Red Bull Classifica alla mano Mattia Metrano Avvenuto ai box Dopo Per Insomma Una ripartenza Dalla safety car Non così felice Peccato perché Mattia Scattato in top ten Ha Conservato quella posizione Abbastanza A lungo Dicevamo Stiamo vedendo sulla sinistra In alto a sinistra Dragoli evitato Simone Carruba Sulla destra Luca Flaminio Fit Flaminio E in basso Al centro Shumi 91 Legend Matteo Lacerenza Che dovrà guardarsi Ancora una volta In trazione Da un possibile attacco Da parte di Luca Bigno Verso la staccata Di cura 1 5-0 Continua ad aprirsi Il distacco Tra J-Sport E Shumi 91 Legend Tra J-Sport E Fabio Il surname Che a sua volta Sta cercando Di allungare Su Shumi E tutta la concorrenza Per perdere Quante meno posizioni Possibile Con i 3 secondi Di penalità Che pesano Sulla sua schiena Gruppo Comodamente In zona di DRS Sebbene non possa Essere attivato Fino a Flaminio Che è appena fuori Dal secondo Poi Manuel Juve Che insegue Il pilota Red Bull Il più staccato Marco Cano Che tiene fede Alla sua Numea Di roccia Di tosto Di uno che non molla mai E nonostante Queste difficoltà Al freno Che gli rimane attivo Per una leggera percentuale Nonostante lui Lo vada a rilasciare Al momento È in undicesima posizione Uno dei 8 piloti in pista Senza una penalità 12esima posizione Per Baralex Che invece ha trovato Lopeschi e Baralex Si sono trovati Più volte in Bagare In questo GP Quindi felice Per loro Che nonostante Non siano in zona punti Possano trovare Motivazione E un obiettivo In gara Insomma Chiudere l'uno Rispettivamente Davanti all'altro E poi In quattordicesima casella Lachicesco Che così come Mattia Metrano Ha dovuto scontare Un drive-thru Alla ripartenza Dall'ultima safety car Antonio Il suo name Capirne il suo Oggettivo In quale Insomma Posizione Lo troveremo Al termine Di questo GP Post gara Che non dovrebbe Regalare troppo In realtà Non ci sono Giri richiesti Non c'è la qualifica E quindi Ciò che accade In pista Eventualmente Nelle discote Ma piloti Mi sono parsi Molto molto educati Certo Con questa posizione In effetti Fabio sarebbe fuori Dai giochi Per la corsa Al titolo Perché 238 G 204 Per Fabio Con 26 punti A disposizione Non basterebbero Per Fabio Per raggiungere J-Sport Eventualmente Con la vittoria E il giro veloce Di Fabio Il sole Andrebbe a 230 Mentre il J-Sport È già a 238 Quindi Matematicamente Fuori Fabio Il sole Ma teniamo Ancora 21 giri Ci sono state Già due safety car Vediamo Insomma Come può evolversi Il GP Noi Luca Non lo nominiamo Comunque Non Però si sta prendendo Dei rischi Vedo Mamma mia Mi sono autoriscattato Un altro bevete Sempre mutandomi Dalla live Per fare Non disturbare Troppo i ragazzi Che ci stanno seguendo Dalla live Giovi Al sorpasso Nei confronti di Stem Sale in Settima posizione Giovanni Costa Mette nel Mirino Di Lecce Ancora Bagnere gialle Questa volta Nel T2 La Mercedes Di Manuel Juve La ferra dura Fortunatamente Il ghosting Si attiva E Portagano In zona punti Testa cosa Per Manuel Juve Che si vedrà Preda Di Lopez Che è riuscito A passare Baralex Quindi va in Dodicesima casera Al momento Lorenzo Damorri Certo Ha una penalità Così come Baralex Di 3 secondi Ma Ancora una volta Possibilità Eventualmente Per lui Di lottare In pista Per la zona punti Visto che Manuel Juve È lì davanti A 2 secondi E 3 A un secondo Poi 2 secondi E 3 Per trovare Marco Cano Con ancora Qualche difficoltà E freni Quindi Obiettivi In pista Lotta Motivazione Sia per Lopez Che Baralex E anche Lachiecesco Che insomma Ha dimostrato Di avere un ritmo Comodamente Per La zona punti Parte Estremamente Digitosa Insomma Della classifica Zona alta Della classifica Quindi potrebbe Anche gli rientrare In confronto Di questi 4 piloti E unirsi Alla battaglia Per il punticino Della decima posizione Torniamo ad inquadrare I volti Dei nostri 3 ragazzi Presenti Su Discord Nonostante La preparazione Della gara La tensione Felice Anche che Si Prestino A ciò Certo Il nero Di Discord Un po' Risucchia In questo vuoto Infinito Tutto ciò Che controna i piloti Magari Per il futuro Cercheremo di studiare Anche Qualche grafica Differente Il problema È giusto Che bisogna Prepararle Se hai un pilota 2, 3, 4, 21 Quindi Bisogna preparare Diverse versioni E Tra le cose da fare Ce ne sono sempre tante Vediamo Molto concentrati Flaminio E Shumi Dragon invece Spesso guarda in camera Fa tanto stretching Che si muove tanto Sulla sedia Forse uno Insomma In Qatar Ha avuto pista Libra E possibilità di sfogare Il suo passo E nonostante ciò Insomma L'abbiamo anche sentito Oggettivamente Ammettere Un'incredibile strategia Da parte di LeJJ Sport E per soli 5 secondi Non è riuscito A chiudere quel gap Con la sua strategia Che è stata la più quotata E fatta da tutti quanti C'è stata poi Quell'invenzione Dei primi due Classificati Che Ha messo Drago Con ovviamente Immagino un po' Di rammarico Perché Espresso questa grandissima velocità La pole position Poi non riuscire A cogliere la vittoria Fa sicuramente maluccio E quindi Puoi trovarsi ingabbiato Qui in Brasile Sempre nel traffico Credo Che sia quello Un po' più Ciondolante Sulla sedia Che si sfoga Che ha voglia Di provare Almeno a fare un giro A pista libre E valutare Le proprie prestazioni Anche nei confronti Di un J-Sport Che Quasi un'altra Caterina Sopra la master Non abbiamo nulla E Però 6 e 5 Nei confronti Di Fabio Ingiocabile In queste condizioni Ennesimo passaggio Sul rettino principale Chiusura Del 53esimo giro Già effettuata Da un po' Da parte di J-Sport Fabio Da poco Anche per Schumi Luca Bigno E Drago Lievitato Drago All'inseguimento Dei due Contendenti Al titolo Della Sport League 2022 Luca Bigno E Schumi 91 Legend Con quest'ultima Sempre investi Haas E sempre Luca Bigno Investi Williams Piccola storia Che I due si sono Storia Legami Magari A questi team Che I due Si sono portati Quindi dalla categoria Al 50% Anche alla 100 Dicevamo Con Quindi il pilota Haas Che è uscito Vincitore Lo scorso anno Portandosi a casa Il titolo Per la categoria Al 50% Seguono A 1 e 8 Una Fabio Il surname Che nonostante Si Stia Soffrendo Sul cronometro In confronto Di G-Sport Invece Sta Facendo Selezione Nei confronti Gli altri Rivali Fatto Diminuita La pioggia Abbondantemente Si comincia A intravedere In maniera Molto più Definita Delineata La traiettoria Si alza Meno acqua E meno La pioggia Che cade Sopra le vetture Quasi C'era stato Quel momento Una decina di giri fa Che non ci permetteva Di distinguerne Quasi Le livree E quindi Vediamo Come continua Ad evolversi La situazione Meteo Potrebbe Esserci Spazio Per forse Un ultimo Stint Su gomma Rossa Sebbene Sono rimasti 16 17 7 giri Da dover Completare In questo momento Credo di essere Abbandonato Andre Mi senti? Non mi sente Andre Quindi sono Abbandonato E tra me E voi Help Please Classifica Che ci da Un Più 15 Da parte di G Sport In confronto di Legge E poi Rimande il tema Come diceva in precedenza Antonio Dalla chat Di capire Dove Bisognerà Posizionare Fabio Il surname In questo momento Sarebbe In Appena dietro Drago Forse Quinta posizione Quindi Andrebbe A perdere 15 punti Ne confronto di Gisport Giro veloce In effetti Che Cerchiamo di capire Da chi è stato Fatto registrare Da Lopes Chi In tredicesima Posizione Ma 11 6 Probabilmente Giro veloce Che in questo modo Andrebbe a Luca Bigno Ma Immagino Ci sarà Spazio Per un ultimo stint Sulla mescola Soft O almeno Lo auguro Insomma Ad alcuni Piloti Che magari Hanno avuto Più L'idea Di improntarsi Su un setup Da lasciutto Rispetto a Gisport Che E' una pista Dove si viaggia Abbastanza Carichi Per la verità Sarò curioso Insomma Dovremmo Domandare Il carico aerodinamico Da parte di Jakub Rocchida Sulla sua Alpine Lotta Intanto In casa Aston Martin Con Lopes Che lascia Strada Ad Allaki Allaki C'è Lopes Ah Le telecamere Non aiutavano Quindi Sembravano Essere Ma è oggettivamente La stessa vettura Sono talmente vicini Che quasi sembrano La stessa vettura Non aiutavano In quel momento Le due telecamere Magia In casa Aston Martin Grazie intanto Al sempreverde Marco Lucconi Fitmark17 Buonasera a tutti Grazie per il rinnovo Dell'abbonamento 38 mesi Barare Exalti 3 secondi Di penalità Che quindi Vanno già a posizionare Dietro Dalla Chicesco E anche Dietro All'Opeskin 14esima Ed ultima Casella Stiamo Con i tempi Da parte Di Fabio Di confronto di Shumi Legend Perché ormai Ne abbiamo visto Abbiamo Capito bene Ha fatto una grande selezione G-Sport Di confronto della concorrenza È da tenere tocchio Invece Ciò che sta facendo Fabio Di confronto degli altri piloti Per aprire questo gap Di 3 secondi Giro di 57 In conclusione Con Fabio Sul 1.19 108 1.19 282 Invece per Shumi Legend Due decimi guadagnati Negli ultimi Due decimi a giro Guadagnati Nelle ultime 4 tornate E Distacco Che poi è venuta Si attesta All'incirca Sui 2 secondi Ciò si fa Shumi che deve guardarsi Anche dal possibile Attacco Da parte di Luca Bigno Che va all'esterno Qui alla 4 ore Se ce la fa Una grande manovra E due quasi Rischiano di nuovo L'aggancio Grande lotta Prolungata Prolungata Tra Luca Bigno E Shumi 91 Legend Ancora all'esterno Della ferratura Nulla da fare Per Bigno Tira su un fortino Shumi 91 Legend Perde decimi Preziosi Tenta un attacco Qui Un po' La disperata Presto Per forzare Una manovra Così tanto Per Luca Bigno Ne confronti Di Shumi Nulla da fare Grande girata Di posteriore Un po' Motociclistica Un po' Spicolosa Quasi La guida Da parte di Luca Bigno In quarta posizione Tra l'altro Luca Bigno Il suo nickname Era 41 Adesso C'è solo Luca Bigno 4 Modificato il nickname O vuoto di memoria Personale Veniamo Rettino principale 7-1 tra J-Sport e Fabio 2-5 tra Fabio Shumi Legend Shumi Si vede protagonista In questa lotta Con Luca Bigno Che vuole il podio E potrebbe andare Anche per la seconda posizione Se passato Shumi riesce a stare Nei tre secondi Con Fabio Il suo nickname Staccato Drago Lievitato Che quasi Sembra non riuscire A tenere il passo Di questi Due mastini Provenienti Dalla Sport League Che si sono Davvero ben Integrati Nella categoria Regina Targata Formula E TNT Ma ancora Leggero Sovrasterzo In trazione Alla 4 Per Shumi 91 Legend Sempre tallonato A strettissimo Contatto Luca Bigno Apprezziamo Evidentemente Staccato Da Manuel Poi c'è Baralex Arrivato Alla Chicesco Anche Nei confronti Di Baralex All'esterno Della 1 Si difende All'interno Baralex Prova a fare Buona guardia Richiamo alla 2 Interno Per Alla Chicesco Con Baralex Che si vede Quasi Spintonato Forse un errore In trazione Andando sullo sporco Costretto a tagliare Curva 3 E cedere La dodicesima Posizione Nella Chicesco Anche in pista Non solo Per le penalità Targate Codemaster Andre Avvocato Ci sente? Non credo Mi senta Il buon Andre Credo siamo ancora live Si Non si è sospeso nulla Si Ci siamo Allora Contattiamo Contattiamo Tramite vari gruppi Organizzativi Organizzativi Per recuperare Il buon Andrea Badolato Almeno per questi ultimi 11 giri Avere un touch Ogni tanto Vediamo come si muovono Lì davanti Shumi E Luca Bigno Sembro nulla di fatto In questo giro C'è ancora la possibilità Verso Curva 4 Dove Bigno In parte La modentazione È parso Decisamente Più a posto Rispetto a Shumi Non deve fare Troppo lontano Per il momento Fase dove magari I piloti Cercheranno Di risparmiare Un po' di hertz Per il gran finale Ci siamo Ci siamo Grazie Grazie Nel primo stint Decisamente positivo Poi L'azzardo Di fermarsi Prima rispetto agli altri Per montare la mescola Intermedia La safety car Non l'ha aiutato A restare A recuperare La posizione Che occupava Prima di questo Tentativo Di smuovere Le carte Della sua gara E poi Manu mano Dopo anche un testa Gota alla ferratura Sta cercando Di ricostruire la sua gara La possibilità Di togliere Un punticino Che per l'orgoglio Anche l'impegno E la caparbietà Personalmente Almeno dal cuoricino Lo lascerei a gano Visto il problema In freni Che è accusato Fin dai primissimi In giri Di questo gp Può comunque Tentare di Difenderlo Visto che Non ha penalità Sulla sua Ferrari Quindi Si può giocare Questo punticino In pista Tanto sorpasso Di Flaminone Con fronte di Stem Con Stem Che c'è Dell'ottava posizione Ed è anche Abbastanza lontano Da giovi Quindi forse Deve esserci stato Un errore Da parte di giovi Maniera giurata Nel T3 Per l'Aston Martin Credo Lopez Che in testa coda Lascia un cavo Si E' arrivato a 7-7 J Sport In fronte di Fabio Credo che alla prossima Safety Car J Potremmo Cominciare a sentire Tremare Qualche Tavolino Tutto regolare Fino a questo momento Ecco fatto Bene Provo un momento Ad uscire da Discord E rientrare Magari non mi sentiva In questo modo Andre Vediamo se adesso L'abbiamo recuperato E Dalla live Si dovrebbe essere Tutto in ordine Andre in questo momento Mi senti 1,2,3 Non l'ha da fare Nessun badolato Rispose Interpellato 62 Di 71 Con Bar Alex Dall'Akicesco In lotta No Errore Dall'Akicesco Sull'Archi Bancadas Anche in un punto Dove insomma Si è già Abbottamente in sesta Settima marcia Quindi Deve essere stato Un bello spavento Per Francesco Che in questo modo Si trova In tredicesima casella Davvero sfortunata La sua gara Aveva Più volte Occupato posizioni Nobili Di questo GP Apertono Quasi Quasi Aperto Il distacco Di tre secondi Che potrebbe permettere A Fabio Zurname Di restare In corsa Per il titolo E di mantenere Quindi La seconda Posizione Nonostante Tre secondi Di penalità In instant clock Eh Vediamo Non sembrerebbe Potrebbe però Accadere Se magari Qualcuno Con la pista Che si vada Asciugare Sta continuando A piovere Mi aspettavo A smettesse Di piovere Un po' In anticipo Invece Per il momento Continua a cadere L'acqua Soltracciata Di interlagos Però potrebbe Accadere Se magari Negli ultimi Cinque giri Smette di piovere Qualcuno Tenta l'azzardo Di andare Sulla mescola Sleek C'è chi invece Rimane in pista Sulla gomma Intermedia Arriva davvero Tanto sotto Luca Bigno Qui in frenata In confronto di Shubi costretto A correggere La sua traiettoria Per evitare Anche di appoggiarsi Al posteriore Della casa Di Shubi 91 Legend Nulla Provo a premere cose Sul Dottor Badolato Ma nulla Da fare Credo vivremo Cuore a cuore Io e voi Dalla live Quanti siamo? 24 per il momento Ok non male Anche a livello Di numeri Per carità Lontani I 1000 Di una Master League Nel 2016 Ma insomma Che vise All'avvio Sutil 61 F1 Amos Che insomma Portava sicuramente Tanti numeri Ma anche Sven Sven Un'arte Di Nickname Di Sven Zurner Se non vado errato Il cognome Insomma Fu uno dei Primissimi piloti A partecipare Anche alla Formula 1 Esports Il primo campionato Ufficiale Targato Codemaster In quell'annata Comunque C'era anche Alberto Che dalla Sport Veniva A soffiare Qualche punticino Fu un 2016 Almeno Quando ci trovavamo Ancora su Youtube Con le live Di grandi numeri Insomma Anche a livello Di spettatori Grandi numeri Invece Rassegnato A viverli Da solo Di certo Non sarò Il Matteo Pittaccio Che vi racconterà Gli ultimi giri Con l'Imsa Sarà fondamentale È fondamentale Questa gara Ovviamente Per la corsa Al titolo Di J-Sport Amaramente La mia voce Non la Epicizzerà Ancora di più Intanto Lotta tra Giovi E Flaminio In un punto Tutt'altro Che consolo Poi in discesa La Pinerigno Conca In trazione Molto vicini Due In una fase Dove si rischia Di perdere Davvero facilmente Il posteriore Della vettura Dallo morte Di Stem Stiamo apprezzando Questo duello Correttissimo Tra i due piloti Che si lasciano Anche un metricino Abbondante Di spazio In percorrenza In curva Addirittura Lascia un cavo Con un buon incrocio Stem Potremmo addirittura Prendere due posizioni In salita Sull'Archi Bancadas Vediamo come si muove Allora Un coraggio In bagarre Con Flaminio Si sono definitivamente Staccati In confronti di legge Attenzione Cambio di traiettore Con Flaminio Che si è tuffato Ai box Grande pericolo Si è fermato Anche di legge Passati quindi Jovi e Stem Con Flaminio Gomma rossa Per questi ultimi Sei giri E' la mossa Per di legge Di O riaprire Totalmente La corsa al titolo In una gara Dove è stato Un po' nell'ombra E ha anche subito Qualche sorpasso Di troppo O Giocarsi tutto E anche Potersi Ritrovare Sotto la bandiera Scacchi Fuori dalla zona punti Attenzione Perché il ritiro Di Allacchicesco Viene ai box Quindi Smentata la possibilità Da safety car Mettono tutto sul piatto In casa Ferrari Con Kaiser Matteo Geraci Dalla chat Ingegnere E Insomma Credo siano momenti Di altissima Tensione Intanto se non lo sto vedendo Più nel cammino Virtuale del Formula 1 Chissà è fino a fatto Ma tra l'altro Quest'anno hanno fatto Una gara E poi si sono fermati Si vociferava Di prestazioni pari Non così pari Tant'è che poi Si sono trovati a correre Con la vettura Del Formula 1 World Con le livree Delle varie scuderie Applicate Quindi Insomma Amaramente Sono sempre tanti Problemi In casa Quotemaster Gli ultimi anni Sono stati molto segnati Anche dal cheating Anche negli sports Quindi insomma Di cose ne sono avvenute Ci apprestiamo a vedere Questi ultimi giri Con tutto il protone Di piloti E il DRS abilitato Che invita La concorrenza A scatenarsi In questo finale Tutti quanti Su gomma rossa Nel finale Non si sono ancora Fermati J Sport e Fabio Giustamente J aspetta Che siano gli altri A tentare l'azzardo Di legge Con quest'undercut Credo Andrà comodamente Davanti Eh no Era già davanti A Giovi Potrebbe andare Invece ha perso Ne confronto Di Luca Bigno Mi aspettavo Riuscisse a guadagnare La posizione Invece anche Un secondino Credo Lo abbia perso Soprattutto il contatto Con Luca Bigno Prima della sosta Era più vicino Se non Ricordo male Sosta invece Che riporta Flaminio Proprio in mezzo Tra Giovi e Stem Nella posizione Nella quale Avevamo lasciato Prima di quel tuffo In bit lane Mentre che si aprivano In tre Sull'archibank Cadas Sosta ibox Che arriva in questo momento Per J-Sport Fabio Credo nessuno Tenterà la follia Di continuare Ed anche Shumi Legend Dentro ai box Manca L'appello Drago Cartello L'ingresso Pit lane Come di consueto Che salta E vediamo Dove si troverà Bigno Nei confronti Di Shumi J-Sport Va a disabilitare In questo momento Il pit limiter Dovrebbe essere Comodamente In prima posizione Nulla Nulla di nuovo Insomma Per J Aveva tanto marce Ne vediamo Bigno E fianco a fianco Virtualmente In una specie Di Joker Lap Shumi Legend È in trazione E passa Allora Luca Bigno Che si ritrova Molto vicino A Fabio E quindi Con la possibilità Di rimanere Comodo Agganciato E con i tre secondi Andare in seconda posizione Mentre Shumi Invece si vede Nelle grinfie Di Luigi Di legge Per riagguantare La quarta casella Che per diverse tornate Ha occupato Soprattutto all'inizio gara Poi Un po' L'evoluzione Del GP Non ha Portato A brillare Il pilota Che si trova A contendersi Il titolo Con Jakub Rokita Lì davanti Sette e mezzo Di vantaggio Quindi la possibilità Anche di tentare L'attacco Al giro veloce Vedremo Insomma Il DRS Per bigno Di legge Potrebbe Garantire Quei decimi Importanti Non penso Jay Possa Difendersi Sotto questo Punto di vista Questo punticino Extra Va iniziare Il giro 68 Di 71 Fabio Anchegli Nelle grinfie Non di di legge Come dicevamo In precedenza Per Shumi Ma Della Williams Di Luca Bigno Valtzor posto In dato di legge In confronto Di Shumi Senza alcuna Difficoltà Lampeggia Direttora Tirone Da parte Di legge Per cercare Di stare Nei tre Secondi Salire Sul podio Prendersi La posizione Confronti Fabio Il surname A perdere Dieci Punti Invece Che Dodici Nei confronti Di J-Sport Ondeggia Luca Bigno Alle spalle Di Fabio Il surname Sicuramente Luca Vuole andare Ma Fabio Starà Anchegli Dando Fondo Alla Sua parte Ibrida E Anche Tutta la Sua Abilità Di guida Per cercare Di Tornare Ad aprire Tre secondi Di confronti Di legge Shumi E Drago Levitato In questo momento Ne ha Due Sei Due Cinque All'incerca Di confronti Di legge Sul filo Con Shumi Legend Quindi Per chiudere In quinta Posizione E Rischiare In realtà Anche Di andare Più Indietro Con Drago Levitato Che è Molto Vicino A Shumi Pena dietro Questi periodi La quale abbiamo Da poco Ciarlato Troviamo ancora Il trio Giovi Flaminio E Stem Che si giocheranno Fino all'ultimo La settima Ottava In una posizione Zona punti Conclusa Daganu Che è riuscito A ritornare Ad avere un po' Di margione Confronti Immanuel Juve In undicesima Posizione Poi Baralex In dodicesima Lopes In tredicesima Ed ultima Posizione Ritirati A box Invece Alla Chicesca Mattia Metrano Va al Contro Sorpasso Shumilagio Nei confronti Di legge Va al Sorpasso Invece Flaminio Nei confronti Di Giovi Verso La staccata Di cura 1 69 Di 71 Continuano A muoversi Eventualmente A snocciolare Magari Anche Con i piloti Contro Sorpasso Di parte Di Giovi Nei confronti Flaminio Dicevo Con i piloti Che troveremo Poi Sul podio Nelle consuete Interviste Con i primi Tre Classificati Oddio Avvocato Casa Godemaster Casa EA Sports Beh sì Assolutamente Scondolata Intanto Da parte Luca Begno Trazione La Beccodupato 2 7 Non sembra Così Brillante Il ritmo Di Schuvi Nei confronti Di quanto Stava facendo In precedenza Di legge Che era Quasi a 2 2 Su Bigno O forse Può anche starci Invece un grande tirone Da parte di Fabio Il Surname Per cercare di riaprire Questo gap E eventualmente Perdere solo la posizione Nei confronti Di Luca Begno E conservarla Invece Su Schuvi 91 Legend Tant'è che Lo abbiamo visto Lampeggiare Sul ritmo In filo Principale Fabio Travaglioli In artefabio Il Surname 70 L'attacco Questo frangente Luca Bigno Nulla da fare Aspetta L'ultima tornata Disteso Invece Drago Levitato In attesa Grande sovrasterzo L'abbiamo visto Dalla sua Visual Non abbiamo visto La sua vettura Ma abbiamo visto Lui Muovere davvero Tanto il volante Altre 5 secondi Penalità Per Bar Alex Ha deciso Di tornare A box La Siva Continua ad aggiornarsi Anche per il costruttore Un colpo importante Per l'Alpine Nonostante Abbia solo Una vettura In pista Va a guadagnare Una decina Di punti abbondanti Rispetto a Ferrari Archibankadas Per la penultima volta E va ad iniziare L'ultimo giro Da parte di Jakub Erocchita Una mano Molto importante Allungata sul titolo Facendo registrare Anche la migliore prestazione Sorpasso da parte Di Luca Bigno Nei confronti Di Fabio Il surname Che avviene anche In pista Ora Bigno Deve Ora Fabio Deve sperare Che Bigno Vada Davvero forte 1.10.887 Il tempo Da parte di Luca Bigno Con anche l'utilizzo Del DRS Difficilmente J Sport Lo potrà replicare Dicevo Fabio Deve restare Quanto più vicino Possibile A Luca Bigno Per cercare Di conservare Il podio Flaminio Si riprende a posizione Con fronte di Giovi Vediamo come si muove Stem Perché potrebbe trovare Un varco Anche lui Lampeggia Nulla da fare Quindi Giovi Di nuovo All'interno di Flaminio Che anche gli lampeggia Dallo bordo di Stem Vediamo che Giovi Va molto profondo In frenata Si prende a posizione Forse incrocia A parte di Flaminio Nulla da fare Con Giovi Che risale In settima Di legge Lontano da Schumi Nelle grinfie Di Drago Lievitato Per un possibile Arrivo in volata 2-7 Schumi Ne confronti Fabio Il suo nome Sta cercando Di dar tutto Il pilota Ass Per tornare Sul podio Fabio Ovviamente Sta cercando Di fare Altrettanto Per conservare La sua posizione Lo dicevamo Una mano importante Brasile La sua prima vittoria Nel 2017 Sotto un diluvio Il diluvio C'è stato Una grande Dimostrazione Di forza Jakub Rocchita J-Sport VR46 Vince Il gran premio Del Brasile Con anche Il giro veloce Questa è una manona A prendersi il trofeo Della Master League Ma glielo risoffia Via Luca Bigno Ovviamente Per la consegna Del titolo In Master Dovremmo aspettare Il GP Ad Abu Dhabi Poiché J-Sport vince Bigno Secondo Terzo Schumi Quarto Fabio Il Surneve Quinto Luigi Di legge Sono davvero Tanti Per la verità I punti Con Luigi In quinta posizione Sono almeno 15 punti Guadagnati Da parte di J-Sport Che ne accusava Due Prima di questo GP Andiamo Facciamo così Un attimino Al volo Su BS Così la grafica Si vorrebbe aggiornare Al volo Con la classifica Che dovrebbe Arrivarci In questo momento Ripartono i social Dovrebbe arrivare La classifica Non arriva la classifica E allora Andiamo a forzare Andiamo ad obbligare A darci i dati Aggiornati Anche Visto che Finalmente Sappiamo In che posizione È arrivato Fabio Il Surneve La quarta casella Purtroppo Non è riuscito A conservare Poi ho perso I 71 millesimi Oh eccola qui Finalmente la classifica 13 punti Di vantaggio Di J-Sport Nei confronti Di legge Fabio ancora In corsa A 24 punti Dalla vetta Quindi Sarà sicuramente Difficile per Fabio Il Surneve 13 punti Per J-Sport Nei confronti Di legge Ci sarà da valutare Ovviamente Il giro veloce Drago ha fatto 109 Ah ha fatto il giro Ha calzato Ulteriormente Migliorato il giro veloce Drago lievitato Necessito vedere Di quella piale Di Flaminio Che dice Lo porto io L'orto è bio Porto il brio Come di consueto Colorito Il buon Fleming Selfie di rito Per Jakub Rokita O almeno Il suo avatar Che quindi Arriverà ad Abu Dhabi Con 13 punti Di vantaggio In confronto Di Luigi Di legge Significa Luigi primo J terzo Per prendere Quei 13 punti No Con il terzo posto Ne prende 10 Signifirebbe quarto Quindi J-Sport Per Insomma La classifica di oggi Invertita Tra questi due piloti E ci sarà Insomma Anche da ragionare Allora Sull'eventuale Giro veloce Non dovrebbe essere Stata una gara Che vedrà Ribaltamenti Di fronte Nel post gara Non ho visto Grossi contatti Nulla da recriminare Immagino Tanto Confermato anche Il giro veloce A partita Con evitato 109 912 Allora Per la mia Per la gioia Della mia ugula Una piccola pausa Torneremo Tra pochissimo Con le interviste Ad i primi tre Classificati Grazie chat Per l'aiuto Insomma Se no sarebbe Stato un monologo Dialogo decisamente Più divertente A tra poco Ci sono Arrivo Arrivo Eccoci qua Ciao Dan Roberto E allora State bene Oggi mi faccio Spendere qualche cosa Ci vuole un qualcosa di forte Bene Questa è una proposta Ciao State bene attenti Un prodotto unico E' bello Lo senti Ti dà i brividi Ti dà gioia Questo prodotto è E' una maglietta A cotone Il 100% Vale 19 29 30 20 euro Resistente Negli anni Lo vediamo meglio Eccolo qua Fermati Aldo Fermati Su questa Costa comunque Più spesso Lo mettete Senza maglione Eccetera Vi veste Fa abbigliamento Praticamente Fa da cosa pesante Antinvernale La mettete col jeans Il patrone elegante Bene Ce n'è una Piene Aldo Segli Abbiamo la grigia Tinturita La vinaccia E quella bianca Bene Quando mi sederete Direte No papo Non è possibile No papo E invece si Respira questa E' chiaro? Un prodotto Ambito Da tutti A volte Introvabile Ve lo consiglio Con cuore Con sudore E con gioia Di nuovo in diretta In questo momento Occasione Con le interviste Per i primi tre Classificati Del Gran Premio Del Brasile Penultimo Rauno Con la Master League 2023 2024 Cominciamo Allora Dal buon J Sport Lo diciamo sempre Ma Va troppo forte Sull'acqua Oggi Quasi Ingiocabile Sul bagnato Non ti piace A te Ti definiamo così Però Habitat Naturale Avevi la maglia Adatta Anche Così azzurro E' andata bene Molto bene Allora In qualifica Tutto sommato Bene Tranne che ho avuto Un piccolo problema Che Dopo il primo Tentativo La macchina Non andava più Era a 17 km Orari A farfalla piena E non capivo Perché non andasse più No Allora Un attimo Un po' di panico Sono stato di mezzo Tipo a Luca Ma Spero che non era Nel suo giro Spero Poi alla fine Ha migliorato Fortunatamente Ma Diciamo che Me la sono vista Brutta lì Perché avevo Il gas Completamente aperto E andavo a 17 all'ora E vabbè Ho trovato la discesa Ma ha dato la spinta Per poter dopo proseguire E poi dopo andava Non so cos'è successo Per il resto La gara Era per me Fondamentale Stare davanti Non so se Si è visto Raffo Ma Ho cercato In più modi Di rispondere Subito Fabio A Fabio Bravo Non mi veniva più A Fabio Perché era importante Per me stare davanti Perché sapevo che Sull'acqua Forse oggi Avevo una grande chance E fortunatamente Diciamo Sfortuna e fortuna Vuole che il mio compagno Sbatte nel momento Sbatte nel momento in cui C'è la decisione Di scegliere Sulle intermedie Quindi siamo obbligati Tutti a andare Su intermedie E da lì E da lì E da lì E da lì onestamente Volavo Vedevo il distacco Che si ampliava Sempre di più Ho sempre guardato avanti Avevo dei problemi Un po' di lag Insomma Penso all'ultima patch Perché Non avevo problemi In connessione Ma mi si frizzava Un secondo Quindi dovevo Concentrarmi Maggiormente Su quello Per Non sbagliare E niente Sull'acqua Ho gestito Il passo Come volevo Quando dovevo Spingere Nel momento I critici Ovvero Quando ho cominciato A piovere Tanto Spinto Per creare gap E poi ho gestito Fino alla fine E l'importante Era il risultato finale E questo risultato finale È veramente ottimo Sono super Super Mega Iper contento E ho fatto Una buona prestazione Adesso Testo all'ultima gara Molto bene Grazie mille E veniamo allora Al secondo Classificato Luca Bigno Scattato Quattordicesimo Luca Una rimonta Furibonda E lei vi dicevamo Uno di quei piloti Che ha portato La mentalità sport Ovvero Non perdere tempo Il cercare Di essere Sì aggressivo Ma comunque Nei limiti Del regolamento Insomma Oggi ha veramente Pagato Complimenti Mi senti te? Sì sì Ok No diciamo Per la gara di oggi In realtà Ho fatto Neanche un giro Di preparazione Perché Tutta la settimana Non ho veramente avuto tempo In alcun modo Quindi non ho potuto fare Neanche un giro Quindi mi sono trovato Giusto stasera A discutere Con il team Sull'assetto E sulla strategia Da fare Durante la gara E diciamo che Questa non preparazione Si è vista Durante la qualifica Infatti Ho fatto solo Il primo tempo È abbastanza regolare È abbastanza regolare Guadagno qualche posizione Sfruttando qualche errore Poi quando si arriva A dover mettere L'intermedia Sento che Ho Molto feeling Anche rispetto agli altri Probabilmente anche perché Avevo un assetto Leggermente più carico E poi Per il resto Devo ringraziare Veramente tanto Il muretto Della Williams Che ha fatto Delle chiamate Eccellenti Nonostante Con il secondo pit Quando Ho rimesso L'intermedia Ci sia stata Safety car Perché Si è ritirato Lucio Comunque Sono riuscito A guadagnare Una posizione Grazie ai due giri Di undercut Su Drago Quindi Ero Abbastanza tranquillo Poi In quello stint Appunto Avevo Secondo me Un gran passo Solo che Non Ho fatto fatica A passare Non tanto Di legge Perché Sono riuscito A passarlo subito In curva Uno Cercando Paradossalmente Di difendermi Da Drago Quindi Mi è andata Anche Abbastanza bene Perché ho rischiato Di centrarlo Fortunatamente Non è successo Niente Poi Ho perso Secondo me Tanto tempo Dietro A Schumi Non sono riuscito Ad avere lo spunto Per sorpassarlo Alla fine Ha funzionato L'ennesima Chiamata perfetta Quella Sulla rossa Quindi abbiamo fatto Un undercut Di circa tre secondi E sono riuscito A tornare su Fabio E quindi Risparmiando Aersa e gestendo Sono riuscito Anche a sorpassarlo All'ultimo giro Per avere comunque La posizione Anche se dovesse Se dovesse Togliogli la penalità Quindi Sono felicissimo Per questo risultato Non me l'aspettavo Veramente Però devo Devo ringraziare Ancora Ancora il team Perché Questo podio L'abbiamo fatto Tutti assieme Molto bene Grazie mille Luca E poi veniamo Al terzo posto Con Schumi 91 Legend Schumi Selvaggia La lotta Per cercare Di tornare Sul podio Anche questa sera Sì Anche i capelli Vedete che hanno Un po' Lo spirito selvaggio Dopo questa gara Sì È stata Molto Tesa Come gara Perché Sapevamo tutti Che sarebbe arrivata La pioggia Quindi Era importantissimo Fermarsi sempre Nei giri giusti Poi c'è stata La safety Quindi Tutti quanti Siamo andati Insieme sulla inter Ho tentato Qualche attacco Su fabio Perché Sapevo Che comunque Avrei dovuto Guadagnarmela in pista La posizione E in uno Dei attacchi Che gli ho fatto Lui ha portato Un danno al fondo Ma Cioè Non voglio neanche Minimamente pensare Che possa essere Motivo Di disputa Perché A parte che In questo gioco I fondi saltano Come se niente fossero E poi Io ero Più stretto Che non potevo E lui Ha fatto la curve Cioè Nel senso Non è roba Da disputa Ecco Pure io Ho riportato Un piccolo danno Al fondo Nella lotta Con Luca Ma Io Lo vedo Un'errore Del gioco Che Una scorrettezza Dell'altro Pilota Ecco Quindi Spero che Per una volta I risultati Della pista Possano essere Confermati Sarebbe bello Il mio unico Non sempre ha pagato Infatti Mi sono trovato Spesso in difficoltà E vabbè Lui ha messo La soft Un giro prima Io l'ho Completamente perso Anzi Non stavo Neanche più Guardando a Fabio Guardavo più che altro A dietro Pensavo che quarto Poi ho visto Che gli ultimi Due giri Ho recuperato E avevo anche Più hers Ne ero sicuro Perché per tutta La gara Ho avuto più hers E quindi Ho dato L'affondo finale Per il podio Ma ormai Dire podio E Bisogna aspettare Mercoledì prossimo Per poter Per poter Avere La conferma Del risultato Perché già so Che ci saranno Dispute E compagnie varie Molto bene Grazie Shumi Jay Insomma È la domanda Che ti aspetti 200 Aspetta Lo riprendo Preciso Ogni volta poi Discord Fa le burle 238 per te 225 per Luigi Quindi Più 13 Più 24 Invece su Fabio Che è quasi Fuori dalla corsa Quasi Oggettivamente A meno di disastri Fuori dalla corsa Al titolo E quindi Più 13 su Luigi Essenzialmente Le posizioni di oggi Ribaltate Con lui primo E tu quarto Per rimescolare le carte Dovremmo poi Insomma Fare i conti Con il giro veloce I piazzamenti Chi è arrivato Una volta primo Chi è sul podio Eccetera eccetera Ma non so Se tu ti aspettavi A metà stagione Visto che avevamo Avuto la prova Di un Fabio Così rapido Se ti aspettavi Di arrivare All'ultima gara Non di lotta Con Fabio Ma con uno Dei piloti Con la quale Stavi recuperando E che tra l'altro È lo stesso pilota Con la quale Ti sei giocato il titolo Anche l'anno scorso Da Budami Ma diciamo Che dopo l'inizio Di stagione Di Fabio Un attimo Sembrava più Quasi Una lotta Per il secondo posto Non aveva iniziato Portissimo Però Sapevamo tutti Che è stato Ed è tuttora Un campionato Molto equilibrato Quindi Io ci credevo Ci credevo sempre Nel sperare Che potesse comunque Cambiare un po' le sort E magari Provare a stare lì No Onestamente Non mi aspettavo Arrivati Fino a qua Questo risultato Così Però Dire che non ci credevo Direi una cagata Perché comunque Poi dovevo difendere Il titolo Quindi avevo anche L'obbligo Che ci dovevo credere Sta di fatto Che Da Ungheria Allora Già Tutte le gare Tutto sommato Avevo fatto abbastanza bene Ho steccato probabilmente Silveston Per la connessione Che è saltata un po' tutti Però da Ungheria È cambiato qualcosa Proprio Nel modo di Fare bene le cose Capito Nel fare la strategia Nel cercare di Essere agressivi Quando serviva Nel capire Quando e come Bisognava fare le cose Per risalire Sulla china Magari se si partiva dietro Qualche circostanza Sicuramente Fortunata Per esempio Monza Che sono arrivato Pelo Come l'anno scorso Forse Diciamo Con un pelo più di vantaggio Ma devo stare attento Perché Luigi È una vecchia volpe Oggi comunque Ha fatto quinto E c'è anche Il post gara Quindi magari Qualche punto Possono prendere Quelli dietro Quindi bisogna vedere Bene Il tutto Sta di fatto Che Sicuramente Voglio essere In questa posizione E sicuramente Non me l'aspettavo Inizio anno Molto bene Grazie Jay A te va anche La vittoria Del driver of the day Una percentuale Che nemmeno Putin Con le elezioni Fa un toccio Ecco Adesso La SWAT No Però Il corrispettivo Del Cremlino Che entra in casa Quindi Complimenti Jay Ciao Ero È stato bello Perché è durato Quindi Complimenti Anche per la conquista Del voto Del driver of the day E Te ringrazio Jay Vi libero Prima questa sera Sono Anch'io Quanto quasi Quanto vuoi Quindi grazie E buona notte Tra l'altro Voglio chiudere Che Comunque Mi ha ricordato Tanto il 2017 Quando avevo vinto La prima volta Un attimo Ho avuto Dei flash Anche durante la gara Avevo dei ricordi Con Praticamente io da sole Dietro c'era Magic Non so perché Durante la gara Mentre guardavo i distacchi Avevo sto flash Eh sì L'abbiamo citato Più volte Anche Questo tra virgolette Passaggio di testimone Che apparò Quel fantomatico 2016 Insomma Brasile Brasile Mi porta tante cose Molto bene Ciao a tutti Buonanotte Grazie Buonanotte Anche a Luca Bigno Ciao a tutti Buonanotte Grazie Buonanotte Anche a Show Vediamo Poi Buonanotte Grazie mille Matteo Grazie anche Dalla chat Fondamentale Questa sera Altrimenti Non ne saremmo Usciti vivi Io vi rimando ai social Stargate Feet Insomma Instagram Telegram Credo ci sia ancora La pagina Facebook Dovrebbe essere Ancora attiva Con il nome F1 Italian Team E ovviamente Importante Fondamentale Sul sito Vovu.formatilanteam.com Per restare aggiornati I suoi risultati ufficiali I video Le parole Dei piloti Vivere questi ultimi Chilometri Ancora 300 Per la Master League Ma c'è Comunque Ancora la gara Con la Prime Lo dicevamo in apertura Il ritorno di Morno Le diverse wildcard Per la festa finale Con la Prime Amaramente Non potrò esserci Per l'intervista Finale Con il buon Nas Pazzone Però dai Alex Robby Tutto il gruppone Delle vecchie guardie Della Prime Daranno sicuramente Spettacolo Anche in occasione Dell'ultimo GP E ovviamente Abu Dhabi Ospiterà anche La Sport Pro E la Master League Mercoledì prossimo Per decidere L'assegnazione Del titolo Piloti e costruttori 2023-2024 Anche da parte mia Raffaelelli Per voi Rosh C'è tutto Grazie ancora Perci seguito E buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti